Bentornati a tutti a questa nuova talk di Oro Villa che è di fatto la nostra ultima per l'anno 2020. Questo 2020 che è stato un anno davvero difficile e pesante per tutti noi da ogni punto di vista, sia psicologico che economico, ma nel suo essere difficile ci ha appunto stimolati a fare delle nuove esperienze. Una delle nuove esperienze che abbiamo fortemente voluto appunto insieme a Maurizio Mazziero e Oscar Olivari e tutto il team di Oro Villa è proprio quella di metterci in gioco con una nuova esperienza per rispondere un po' anche alla filosofia di Oro Villa che è quella di fornire contenuti sempre più di qualità e non soltanto prodotti e servizi. Quindi vi ringraziamo tutti, tutti voi per aver risposto davvero con grande entusiasmo a questa iniziativa accompagnandoci in questo percorso con grande partecipazione sia numerica che di interattività con le vostre domande e la vostra partecipazione e ci auguriamo che sia stata anche per voi un'esperienza ricca di spunti di riflessione e che vi abbia dato conferme che insomma il team Oro Villa possa godere della vostra fiducia e del vostro apprezzamento per la bontà e la qualità dei prodotti e dei servizi offerti. Quindi come team Oro Villa desideriamo continuare sicuramente questo percorso insieme a voi con un nuovo calendario di appuntamenti per il 2021 e quindi sin da ora segnatevi la prima data che sarà quella di venerdì 15 gennaio sempre alle 17.30 perché insomma tradizione non mente. Per chiudere l'anno 2020 e tracciare le prospettive per l'anno 2021 il nostro Ugo Battagin appunto ci ha offerto una copertina filosofica che ci porta diritti nel mondo di Escher, questo artista olandese peraltro innamorato dell'Italia che ci porta nella sua opera Il giorno e la notte e alla scoperta di mondi dalle prospettive apparentemente impossibili e che si costringono soprattutto a porci interrogativi su ciò che è vero e ciò che è apparenza. E noi di Oro Villa siamo privilegiati perché abbiamo insieme a noi Maurizio Mazziero che è il nostro esperto d'arte in analisi dei mercati e di economia e ci aiuterà a decifrare le prospettive dei mercati finanziari, della macroeconomia e della geopolitica. Quindi partirei a fare il resoconto dei mercati a fine 2020 per poi esplorare le prospettive della panoramica di macroeconomia e di geopolitica e capire cosa ci aspetta per il 2021. Come ha ricordato Maurizio risponderemo a fine presentazione alle domande e quindi vi invitiamo a scriverle nella casella Q&A e quindi direi a te maestro Mazziero. Grazie Graziella, addirittura maestro, per carità. Allora dunque, questa è la bellissima copertina che ha predisposto Ugo quindi volutamente ho condiviso lo schermo anche quando parlava Graziella per mostrarvela, per farvela vedere e quindi ringraziamo senz'altro Ugo per queste ma tutte le copertine, è stato un crescendo e quindi sicuramente le copertine di Ugo ci accompagneranno anche nel 2021 ma andiamo ai mercati e quindi vedrete una lunga sequenza di grafici forse magari ci sarà anche una mi ero domandato se magari spiegare bene il significato delle candele e così via ma diventava davvero una presentazione molto lunga magari ci ritorneremo basti pensare comunque quello che voi vedete la tendenza si capisce, si percepisce questo è lo Standard & Poor's 500 è l'intero anno 2020 un anno che era cominciato con un continuo rialzo che proseguiva da un lungo trend crescente dei mercati americani e poi a un certo punto naturalmente si hanno le notizie dell'arrivo della pandemia finché all'interno della Cina non succede granché sui mercati ma quando arriva in Italia ecco che allora a questo punto tutto il mondo, tutti i mercati si interrogano su quali possono essere gli impatti della pandemia segue una forte discesa di circa un mese della borsa americana e poi piano piano quando si riesce a percepire meglio quelli che sono i contorni di questa malattia non certamente come funziona la malattia e come combatterla i mercati, soprattutto i mercati americani ricominciano a salire però ci impiegheranno parecchio tempo per ritornare ai livelli che avevamo visto a inizio anno perché ci impiegheranno dei mesi solo ad agosto si riusciranno a vedere i livelli precedenti e da di qui ci sarà un sali e scendi con delle ampie oscillazioni e poi ultimamente un ulteriore rialzo chiaramente c'è da interrogarsi di quale possono essere le situazioni che cosa potrà succedere in questo momento la borsa sembra un po' sulla difensiva voi vedete questa è una visione di più breve termine è una borsa che è un pochettino più cauta una borsa che si è resa conto comunque che ci sono degli eccessi anche nelle valutazioni delle azioni e quindi in qualche modo ci sta questa discesa dei prezzi vi faccio notare che soprattutto per quel che riguarda la borsa americana è forse almeno da un paio d'anni che gli analisti si interrogano sulle elevate quotazioni delle aziende e sul fatto che prima o poi arriverà una discesa qual è la novità? e la novità è che pur considerando che effettivamente ci saranno dei sali e scendi questo è inevitabile anche perché ci saranno degli utili di alcune aziende che verranno nuovamente rivisti a ribasso proprio perché colpite da questa seconda ondata della pandemia e quindi in ogni caso per forza dovremmo assistere a delle altalene di prezzi oggi non c'è più nessuno o perlomeno sono molto rari quelli che dicono ma questa borsa deve scendere deve scendere parecchio allora cerco di darvi qualche elemento per interpretare questo tipo di cosa perché è un elemento molto molto importante allora finché ci sono dei gestori che dicono quindi anche importanti gestori di fondi che dicono questa borsa è a prezzi elevati e deve scendere significa che quei gestori che fanno questo tipo di dichiarazioni e lo fanno normalmente nelle loro mezzi di comunicazione nelle interviste e così via vuol dire che loro di fatto hanno già venduto una parte sono parzialmente scarichi quando invece più nessuno si interroga questo il problema è che molto probabilmente anche quei gestori che avevano scaricato si sono resi conto poi di rimanere indietro e hanno dovuto ricomprare il fatto che oggi pochi dicano che la borsa deve scendere forse questo è un elemento che ci dice che sono tutti investiti se tutti sono investiti vuol dire che non ce ne sono altri che devono comprare per spingere più in altri prezzi e quindi secondo me qua si inserisce una nota di cautela quindi questo è uno dei temi che ci accompagnerà poi nel 2021 anche se ci saranno anzi ci sarebbe da augurarsi che ci sia una forte discesa perché a questo punto si creerebbero immediatamente delle opportunità quello che mi viene da dire è che un normale investitore ma poi ci ritorneremo su questo discorso dovrebbe comunque considerare di avere un portafoglio abbastanza equilibrato avere dentro degli asset che sono in qualche modo protettivi a noi ci piace pensare in questi termini ad esempio all'oro ma ritorneremo e al tempo stesso avere anche un po' di liquidità perché nel momento in cui i mercati dovessero scendere noi potremo andare ad acquistare a dei prezzi inferiori molto facile a dirsi molto meno a farsi però diciamo questo è un tema di ragionamento andiamo avanti il Nasdaq ha brillato è stato davvero ha surclassato completamente con nuovi massimi storici il suo valore chiaramente spinto da titoli tecnologici come Facebook, Netflix Google, Amazon e quindi in qualche modo davvero questo indice che è quello delle aziende tecnologiche è andato veramente in alto all'interno di questo ci sono anche le aziende biotech e anche lì abbiamo avuto delle ottime performance che cosa è successo? voi vedete già da subito più o meno come andava esattamente come lo Standard & Poor's 500 ma con un'inclinazione maggiore c'è stata la discesa con una discesa che è stata un po' meno accentuata e poi il trend è partito subito e già da giugno il Nasdaq aveva recuperato innestato in un canale piuttosto ripido ma molto regolare voi vedete le azioni sono salite ha fatto un massimo intorno a settembre ha oscillato un po' esattamente come lo Standard & Poor's 500 e poi a questo punto ha segnato nuovi massimi anzi due giorni fa ha segnato il nuovo massimo storico se parlavamo e abbiamo detto le cose dal punto di vista Standard & Poor's 500 qui siamo di fronte a un punto piuttosto critico perché perché già voi vedete quella linea azzurra che andava a traguardare e ve lo mostro i massimi precedenti di settembre voi vedete questa linea azzurra ecco che noi ci troviamo al di sotto questo è uno segnale come da dire che il mercato fa fatica in questo momento cercare di proseguire a rialzo che cosa potrebbe fare nel breve ma nel breve se la cosa fosse confermata diciamo questo rimanere sotto questa linea nelle prossime una due sedute quindi stiamo parlando di lunedì e martedì potrebbe cercare di dirigersi in questa zona per poi forse anche proseguire a 11.500 non sappiamo se quello potrebbe già catalizzare degli acquisti c'è da dire che probabilmente intanto una cosa vi devo dire che quando scende il mercato non necessariamente è vero c'è un detto in borsa l'alta marea fa salire tutte le barche e la bassa marea le fa scendere tutte però si innestano delle rotazioni e quindi in qualche modo ci sono delle aziende che sono magari rimaste indietro vi dicevo prima il Nasdaq soprattutto il Nasdaq è stato trainato dai big tech quindi da queste grandi aziende ma altre aziende che comunque sono innovative che magari sono posizionate su altri su altri business sono rimaste indietro oppure per altre notizie che sono giunte negli ultimi tempi magari erano state penalizzate quindi ci potrebbe essere comunque la possibilità di andare a trovare delle opportunità di investimento anche nel momento in cui i mercati scendono mi rendo conto di dire una cosa un po' da specialista ma chi si diletta nel fare delle analisi di bilancio di vedere come vanno le aziende può trovare effettivamente delle opportunità comunque in ogni caso che succederà quindi del Nasdaq beh molta attenzione sicuramente da quello che vedo la risposta ce l'avremo settimana prossima e quindi diciamo in qualche modo la fase è interlocutoria passiamo all'Europa Eurostat 50 qui ci troviamo in una situazione completamente differente provate a osservare il grafico la prima fase la prima fase dove in realtà a differenza dei listini americani qui invece le quotazioni si stavano sviluppando in orizzontale arriva più o meno negli stessi momenti negli stessi periodi la paura del covid la discesa è molto ma molto pronunciata e il recupero avviene in quanti mesi non lo sappiamo perché non abbiamo ancora lo vedete recuperato i livelli che eravamo appena prima del ribasso dovuto alla pandemia quindi non solo non abbiamo neanche recuperato i livelli di inizio 2020 quindi se il bilancio è estremamente positivo per l'America quindi Standard & Poor's 500 Wall Street piuttosto che il Nasdaq non lo è per l'Europa Europa che rimane indietro Europa che ancora è attanagliata da una serie di problematiche un'Europa che ha patito anche in questa fase che voi vedete ha patito della seconda ondata e ancora una volta noi siamo stati apripista nel senso che siamo stati apripista in questa fase iniziale l'Italia è stata guardata molto attentamente per capire come affrontare in Occidente questa pandemia il fatto che l'Italia che veniva se voi ricorderete a un certo punto eravamo anche stati osannati in qualche modo per come avevamo affrontato la prima fase il fatto che l'Italia fosse interessata da una seconda ondata ha portato negatività sui destini che sono quelli soprattutto europei e italiani che sono scesi notevolmente anche qui ci troviamo di fronte a una fase interlocutoria ma abbiamo una linea di demarcazione che è questa rossa che dovremo cercare di osservare che cosa succederà perché se si va sotto a questa linea rossa o diciamo si arriva nel corso di settimana prossima a questa linea e c'è un rimbalzo verso l'alto e forse questo ci potrebbe far ben sperare naturalmente guardate che questo potrà succedere se magari i mercati americani si girano in positivo ma se i mercati americani continueranno a scendere è probabile che in qualche modo verrà trascinato anche l'Europa e anche Piazza Fari quindi l'Italia se si scende al di sotto ecco che abbiamo si rientriamo nella fascia alta di quell'oscillazione che ci aveva interessato per i mesi di giugno luglio agosto e settembre e a questo punto diciamo entriamo in questa fase che potrebbe essere poi allargata con delle oscillazioni diciamo un po' più ampie quindi che vanno ad abbracciare tutta questa zona che questa zona di oscillazione quindi anche qui in qualche modo cautela cautela perché comunque i mercati diciamo hanno fatto hanno dato nel corso del 2020 purtroppo il bilancio per l'Europa è negativo rimane negativo questo è quella di breve termine ma vi ho già spiegato nell'altra slide precedente come anche l'Italia voi vedete che avevamo iniziato più o meno in questa zona noi oggi ci troviamo qui quindi il nostro bilancio annuale è negativo non solo è negativo per i livelli di inizio anno ma è negativo anche per i livelli di pre-pandemia ondata numero uno voi vedete addirittura che si sono aperti nel corso della discesa dei buchi di prezzo delle zone dove non c'è prezzo cioè una seduta termina e la seduta successiva si trova molto più in basso e c'è un buco di prezzi questi prezzi di fatto sono stati già ricoperti quelli in questa zona rimangono aperte e rimane aperto questo buco di prezzo ma generalmente anche questi sono dei punti che poi tendono in qualche modo a ostacolare il movimento delle azioni ancora una volta noi abbiamo già stiamo già chinando il nostro il nostro capo in qualche modo voi vedete che già tendiamo ad avere così una come se fosse un un fiore che comincia ad appassire e vedete in questo modo quindi viene evidenziata la debolezza dell'istino principale italiano una debolezza che ci potrebbe portare in questa zona qui di 21.000 e io spero perlomeno che noi stiamo anticipando un qualche cosa cioè come come tempi come movimenti di prezzo e magari da 21.000 si possa magari cercare di rimbalzare anche perché la borsa italiana è rimasta molto indietro sono caratteristiche perché all'interno c'è anche il comparto finanziario che ha delle problematiche perlomeno in Europa e in Italia e quindi è questo che zavorra di fatto un po' l'istino nell'istino c'è anche Eni in questi ultimi momenti ha anche recuperato un po' però comunque gli energetici sono stati un po' penalizzati durante tutta questa parte della pandemia a causa della diminuita domanda di petrolio ma non voglio anticipare un argomento che andremo a trattare tra poco e quindi comunque c'è anche questo questo aspetto da considerare tenete presente comunque che a Piazza Affari è è quotato anche sono quotate anche delle altre aziende solitamente le small e le mid cap quindi le piccole e le medie aziende sono quelle che hanno magari maggiore capacità di innovazione maggiore spinta all'export e quindi diciamo non soffermiamoci a guardare solo questo ma guardiamo anche a quell'altro perché ci possono essere delle vere opportunità questo è dunque un attimo solo eccolo qua questo è il Fuzzimib di breve termine di fatto vi ho già detto tutti allora i livelli come abbiamo detto prima è poco sopra 21.000 che potrebbero respingere un altro livello lo troviamo qua intorno a 20.400 qualche cosa qua in questa zona 19.800 e poi c'è questa trend line discendente che potrebbe anche lei in qualche modo fermare in questa zona appena sotto i 19.000 punti come vedete stiamo ragionando esclusivamente di quali possono essere i target sulla discesa in questo momento e questo già vi deve in qualche modo dare l'intonazione di quello che è diciamo il mercato un mercato in fase riflessiva non necessariamente possono nascere davvero dei tracolli dei ribassi diciamo molto forti potrebbero essere soltanto magari anche dei ribassi che so io del 5-10% e poi dopo un recupero personalmente in queste condizioni parlando in termini globali e quindi non necessariamente del mercato italiano io personalmente preferirei una veloce puntata verso il basso per poi davvero avere davanti a noi un quindi anche una discesa intorno al 20% ma io sono convinto che se ci fosse una discesa intorno al 20% questa potrebbe avvenire nel giro di 30 giorni e poi se ricomincerebbe a tornare verso l'alto non per creare magari dei nuovi record ma per andare alle zone più o meno dove ci troviamo adesso chiaramente prendete queste mie parole non sono assolutamente delle indicazioni di trading non sono voglio dire anche non non so come voi le possate pigliare il fatto di sentirvi dire uno che si augura un ribasso ma per il fatto che in qualche modo se le azioni stanno su questi livelli è difficile che possano regalarci un 2021 interessante noi oggi stiamo guardando al 2021 e potremmo vorremmo sperare che in qualche modo perlomeno ci desse qualche soddisfazione che in Europa in Italia non abbiamo avuto in questo 2020 vi ho preparato questa questa tabella è stata ricavata a mezzogiorno di quest'oggi e ci sono una serie di informazioni interessanti se voi volete potete farvi uno screenshot sul vostro computer perché andando a guardare ci sono tanti piccoli dettagli utili intanto il valore di oggi e il valore è al 31 dicembre quindi questo vi dice quale è stata la performance sinora nel 2020 voi vedete stand andando al pull 512% il Nasdaq 40% e conferma la sua tonicità e vedete l'Europa meno 7 Fuzzimib meno 8 poi dopo di che vi ho inserito altri due valori che sono la data in cui è stato segnato il minimo di mercato nel 2020 e voi vedete è stato segnato il 23 marzo Standard Poor e Nasdaq 19 marzo Eurostox Fuzzimib 16 marzo e il valore di minimo che è stato toccato a quel tempo voi vedete poi la variazione dal minimo cioè quanto è stato in percentuale il recupero dal minimo che è stato segnato e qui ancora una volta voi vedete lo Standard Poor 500 un bel 67% e il Nasdaq Superstar 86% vedete invece più o meno appaiate ancora una volta Europa e Italia dopodiché trovate invece la data di massimo del 2020 e anche qui vedete una cosa che abbiamo già visto nei grafici ma che qui viene esplicitata in modo molto chiaro voi vedete che la data di massimo è 9 dicembre sia per lo Standard Poor 500 che il Nasdaq 9 dicembre quindi due giorni fa quindi diciamo il Nasdaq e quindi la borsa americana ha fatto nuovi record nuovi massimi e voi vedete invece quali sono le date di massimo dell'Eurostox e Fuzzimib risaliamo indietro a febbraio ben prima del minimo di mercato che era stato a marzo cioè il fatto che noi questo ci dice non abbiamo mai recuperato quei livelli non solo oggi siamo del 10% più in basso per l'Europa e del 15% più in basso per il Fuzzimib rispetto naturalmente ai livelli del 20 febbraio e del 19 febbraio rispettivamente le percentuali di meno non potrebbe essere altrimenti è stato segnato due giorni fa per la borsa americana al massimo e quindi chiaramente oggi ci troviamo un pochettino più sotto ma non è tanto quello la cosa importante un'altra cosa se voi volete magari che può essere utile è capire qual è diciamo fatto 100 l'escursione tra minimo e massimo dell'anno dove ci troviamo in questo momento voi vedete ci troviamo molto vicino ai massimi 95-94% e ci troviamo invece in una zona che è più intermedia per quel che riguarda Eurostox 50% e Fuzzimib il 76% e il 66% detto questo andiamo a vedere l'oro l'oro com'è andato ma l'oro tutto sommato è andato bene molto bene nel senso che era partito a livelli molto bassi ha innestato all'inizio del 2020 una salita notevole una salita migliore anche rispetto a quella del Nasdaq ha poi subito una veloce caduta che è stata però inferiore sia nei tempi che nelle percentuali rispetto a quello delle borse azionarie anzi andremo poi a vedere che quando le borse azionarie avevano già innestato la discesa l'oro andava a segnare nuovi massimi ricordatevi diciamo le date intorno 23 marzo 19 marzo 16 marzo questi sono stati i massimi delle borse azionarie dopo più tardi diciamo poco più avanti riusciremo a vedere anche qual è stata la data del massimo anzi no probabilmente non l'avevo segnato qui perché in realtà c'è un altro massimo qua e comunque se andate bene a vedere l'oro di fatto è riuscito a segnare dei massimi dopo questa diciamo quelli quelli segnati dalle dalle borse dalle borse azionarie l'oro poi recupera recupera velocemente i livelli in solo un mese riesce a recuperare tutto quanto e continua diciamo per un po' la sua la sua corsa innesta un periodo di riflessione un'oscillazione orizzontale poi parte e ad agosto segna i massimi di tutti i tempi polverizzando i massimi del 2011 supera i 2000 dollari l'oncia e poi da lì si innesta una fase di riflessione che dura ancora oggi è una fase molto interlocutoria su cui che è stata probabilmente innestata dal fatto che dopo il vaccino la scoperta del vaccino ci sono i gestori che pensano che il diciamo la funzione di porto sicuro dell'oro non sia più necessaria vado oltre e per per farvi vedere parleremo poi dopo anche dell'oro di che cosa potrebbe convenire siamo in una zona la candela che voi vedete che è rossa l'ultima candela qui registrata stamane a mezzogiorno in realtà oggi è verde e l'oro si sta portando al di sopra di questa linea quindi diciamo una situazione davvero di tiro alla fune tra chi crede nell'oro e chi invece tutto sommato pensa di non farsi nulla dell'oro è una cosa che assisteremo probabilmente anche nei prossimi mesi e su cui avremo modo di parlarne sia nel nel loro news che uscirà sia nei prossimi talk dell'anno prossimo passiamo all'argento un argento molto ma molto tonico che si stava però sviluppando in orizzontale prima della discesa dei mercati fa la discesa e poi dopo di che anche lui prende la corsa e va a segnare un bel massimo non massimo assoluto ma un massimo di periodo intorno a 30 poco sotto i 30 dollari l'oncia e dopo di che più o meno si innesta la medesima il medesimo andamento dell'oro con una differenza perché se voi vedete è un andamento che ha più la sembianza di essere orizzontale piuttosto che essere leggermente inclinato quindi in qualche modo l'argento presenta una maggiore tonicità una maggiore resilienza in questo momento è molto probabile che non riuscirà a partire da solo verso l'alto se non è trainato dall'oro ma è altrettanto probabile che come esattamente come è successo nella fase estiva poi andrà a sovra performare quello che è il rialzo dell'oro come potremo poi vedere anche nella tabella che ci sarà più avanti passo al petrolio petrolio che è partito a dei livelli molto alti ben superiori ai 60 dollari l'oncia non è stato più in grado di rivedere quei livelli per tutto l'anno anche se adesso in qualche modo sta risalendo qui un bel gap aperto cioè quel vuoto di quotazioni qui una seduta terrificante e qui non è ben evidenziato che c'è stato addirittura un future che è andato a finire in territorio negativo a meno 37 dollari ne avevamo anche parlato nel corso delle talk di quel periodo il recupero un periodo di forte incertezza e di oscillazione e poi ultimamente sulla convinzione che comunque anche l'OPEC avrebbe fatto qualche cosa per diciamo cercare di riequilibrare la i livelli di offerta e di domanda come effettivamente è stato allora a quel punto il mercato è tornato a salire è tornato a salire ma ci troviamo di fronte a dei diciamo a una salita che tutto sommato a me personalmente riesco a fatica a pensare che questo possa proseguire ancora più in alto e andare che so io di nuovo a lambire quella soglia dei 50 dollari il barile questo per una serie di fattori che possono essere visti anche qui allora quello che voi vedete su questo grafico al di là di tutte le varie linee guardate gli istogrammi e voi vedete quelli che erano se gli istogrammi sono rivolti verso l'alto indicano una condizione di surplus di offerta rispetto alla domanda se gli istogrammi sono rivolti verso il basso sono indicano una deficit di offerta i numeri che voi vedete sono i milioni di barile al giorno allora quello che noi vediamo è che ci sono stati i primi due tribestri del 2020 che hanno accumulato un notevole surplus di offerta questo dovuto al fatto chiaramente al lockdown a un minore spostamento delle persone al fatto che le compagnie aeree di fatto sono state sono rimaste a terra oggi i voli sono tornati a singhiozzo sono tornati quasi a pieno regime soltanto in Asia il consumo maggiore c'è però diciamo abbiamo ancora una diciamo ricca fornitura di stock di scorte che si sono accumulati in quei momenti in cui comunque malgrado il fatto che l'OPEC diminuisse tra l'altro in maniera anche coordinata con gli Stati Uniti hanno ridotto di 10 10 10,5 milioni di libri di ragione cioè una riduzione del 10% dell'offerta peccato che la domanda era ridotta del 20% e questo giustifica quegli istogrammi che voi vedete in quel modo con quelli con quell'entità oggi ci troviamo ancora in una situazione in cui c'è una riduzione da parte dell'OPEC la riduzione che in questo momento è di 7,7 milioni di barili al giorno avrebbe dovuto diventare una riduzione della loro produzione a 5,7 milioni di barili al giorno a partire da gennaio questo sarebbe stato un po' troppo ecco che c'è stato un accordo un accordo che a gennaio sarà incrementato di 0,5 milioni di barili al giorno la produzione cioè passerà da quella riduzione di meno 7,7 a una riduzione di meno 7,2 e poi dopodiché ogni mese l'OPEC si incontrerà faranno degli incontri incontri virtuali quindi telematici esattamente come lo stiamo facendo noi e andranno a rivedere cosa fare nel mese successivo già oggi hanno stabilito che comunque gli incrementi di produzione non potranno essere superiori a dello 0,5 milioni di barili al mese questa cosa qui ha confortato i mercati probabilmente non hanno ancora fatto bene i conteggi probabilmente sperano che i vaccini sistemino tutti tutto quanto ma noi sappiamo che anche i vaccini prenderanno un certo periodo di tempo per poter diciamo essere così dispacciati c'è da dire che i vaccini sicuramente incidono in maniera piuttosto positiva sulle compagnie aerei per il trasporto proprio di questi vaccini in giro per il mondo e comunque anche della logistica in generale quindi andiamo adesso alla sezione del bitcoin un bitcoin che ha segnato dei non proprio dei nuovi massimi nel senso che erano livelli che erano già stati visti in precedenza ma comunque arrivato a ridosso dei 20.000 e poi è sceso ancora anche lui è in una fase diciamo interlocutoria una fase interlocutoria che però ci potrebbe far prospettare la presenza la formazione di un doppio massimo ecco gli esperti dell'analisi tecnica sanno che poi un doppio massimo qualora venisse bucato e dove diciamo la bucatura potrebbe essere o intorno a 16.800 oppure intorno a 16.250 questo potrebbe generare poi una ricaduta che potrebbe portarlo anche in una zona intorno a 14.000 vedremo come sarà comunque per fare un'analisi un pochettino più lungo respiro il bitcoin nel medio lungo termine è destinato ad apprezzarsi ancora questo dovuto al fatto che la sua offerta è un'offerta che è limitata cresce poco nel tempo e poi a un certo punto non crescerà più quindi in qualche modo il bitcoin è la regina delle criptovalute c'è chi magari non ci crede ma perlomeno comincia ad avere una diciamo una un'attenzione crescente da parte comunque anche di investitori istituzionali banche banche centrali e così via passiamo alla nostra tabellina quindi non vi spiego più le varie cose valori quest'oggi a mezzogiorno i valori al 31 dicembre l'apprezzamento che c'è stato nel corso dell'anno sinora voi vedete l'unico negativo è il petrolio resta il petrolio con un meno 24% si difende bene l'oro con un più 21% stiamo parlando chiaramente di quotazioni in dollari l'argento vi dicevo poi sovraperforma ha fatto un più 33% e il bitcoin siamo a un più 147% non vado oltre perché vi lascio a voi eventualmente quello di andare a scoprire le varie cose nelle tabelline più o meno sulla posizione massimi e minimi voi vedete siamo tutti più o meno lì anche il petrolio vede un bel 68% perché come potete immaginare io ho segnato un valore minimo al 21 aprile di 6,5% in realtà avrei dovuto segnare un bel meno 37% ma al di là di questo che diciamo comunque anche il petrolio ha recuperato abbondantemente bitcoin posizione su massimi minimi 86% a questo punto entriamo un pochettino di più e quindi entriamo nella seconda fase è uno speciale sui metalli preziosi andiamo a così ad approfondire un pochettino di più alcuni aspetti dei metalli preziosi oro il mese di novembre allora mentre il periodo già dal finire diciamo tutto il periodo di quest'anno è stato un anno dove gli acquisti sugli etf sono stati piuttosto ingenti voi vedete anche le sorgenti a seconda della colorazione in base a questa leggenda che voi vedete qui novembre è stato il primo mese di di presi di beneficio presi di beneficio che hanno diciamo anche determinato un po' la caduta che abbiamo visto del prezzo dell'oro presi di beneficio che ci stanno comunque in ogni caso e quindi diciamo gli investitori hanno si sono un pochettino sottratti parzialmente da quello che è il possesso dell'oro non è così invece per le banche centrali perché sono tornate ad essere acquirenti netti cerco di spiegarvi meglio questi sono i vari mesi del 2020 voi vedete l'istogramma verde più chiaro indica gli acquisti l'istogramma invece verde scuro indica le vendite da parte delle banche centrali e la linea rossa indica l'acquisto l'acquisto netto quindi quando la linea rossa è sopra il livello dello zero erano acquisti netti dopo abbiamo avuto due mesi di vendite nette in quanto le vendite delle banche centrali hanno superato gli acquisti e siamo tornati in una fase di acquisti netti dove gli acquisti netti sono stati principalmente Uzbekistan Turchia Emirati Arabi Qatar e India voi vedete anche le quantità espresse in tonnellate ma quello che è simpatico qui vedere è che a un certo punto le banche erano diventate venditori netti e comunque gli acquisti continuavano ad esserci da parte degli investitori e adesso che gli investitori sono di fatto venditori netti degli ETF le banche non tutte ovviamente ma le banche tornano ad essere compratrici quindi una funzione di switch se voi volete un fatto che le banche in situazioni di questo tipo comunque vedono ancora nel loro comunque un bene una diciamo un valore che va a stabilizzare le loro le loro riserve le loro riserve finanziarie se andiamo a guardare questa è una tabella che ci va a esprimere è aggiornata il 10 dicembre quindi a ieri ci va a esprimere per una serie di anni la performance che ha avuto in varie valute vedete che torniamo a rivedere quel più 20 in dollari che tradotto per l'euro diventa un più 11,8 quindi quasi un 12% dovuto al fatto che il dollaro si è indebolito contro l'euro negli ultimi negli ultimi tempi come voi vedete comunque a parte l'anno 2013 che è stato disastroso per tutti e in parte per alcuni nel 2015 la tabella è essenzialmente verde e questa ci descrive 15 anni di performance dell'oro con una media che voi vedete in questo momento è segnata nell'ultima riga per quanto riguarda l'argento allora l'argento va sempre considerato il fatto che è anche un metallo industriale c'è poi un impiego in gioielleria lingotti e monete questo è un grafico che tiene conto dell'equilibrio di domanda offerta e vedete che ci sarebbe in teoria un surplus di 31,5 tonnellate ma se noi a questo grafico andassimo a sovrapporre quelli che sono stati gli acquisti degli etf noi vedremo che non solo il 2019 ma il 2020 è stato un anno di forti acquisti dell'argento con gli etf e l'argento si trova fortemente in deficit a questo punto quindi acquisti sugli etf che vanno a competere con quello che è l'impiego l'impiego industriale l'impiego dell'investimento con i lingotti eccetera eccetera e quindi questo ci dovrebbe far ripensare anche al fatto di cosa vuol dire anche possedere comunque anche un metallo come l'argento dal punto di vista dell'argento uno dei grandi temi è stato negli anni passati ancora talvolta se ne parla ma ormai diciamo non ci si crede quasi più l'elevato rapporto che c'è tra il prezzo dell'oro e il prezzo dell'argento voi vedete che siamo vicini a un livello di 80 siamo arrivati addirittura nel corso di proprio quando c'è stato il ribasso della pandemia a livelli di 110 se voi andate a tracciare una linea una linea diciamo media degli ultimi 50 anni forse probabilmente un livello più consono sarebbe situato tra 50 e 60 questo è l'aspetto non sappiamo se ritornerà anche se la storia dice che prima o poi comunque ritornano questi livelli medi però ci dice anche il fatto che chiaramente ci sarà un momento in cui l'oro performerà scusate l'argento performerà meglio dell'oro questo non significa che l'argento va su e l'oro va giù ma che esattamente come è stato quest'anno ad esempio l'oro si apprezza del 20% e l'argento magari del 33% se voi andate a vedere questo vi dice per quel che riguarda il comparto della gioielleria com'è il rapporto di utilizzo tra argento e oro e quello che si nota è che gli indiani quindi l'India che era sempre stato un paese molto molto attento per una serie di ragioni storiche ma anche ragioni diciamo legali sul discorso del patrimonio dell'oro all'interno di una sul possesso del patrimonio dell'oro all'interno di una coppia all'interno del matrimonio piano piano stanno switchando a causa anche della fiscalità che è stata fatta sull'oro stanno switchando sull'argento e voi vedete come l'India a questo punto ha aumentato l'impiego dell'argento rispetto a quello dell'oro scusate ecco qua allora passiamo adesso agli altri due metalli preziosi palladio e pratino e anche qui vi faccio vedere quello che è il rapporto voi sapete che il palladio si è fortemente incrementato il platino invece è rimasto più diciamo più tranquillo ecco che questi livelli che in certi momenti sempre all'interno del 2020 sono arrivati anche ben oltre tre ecco voi tenete presente che generalmente un livello di 2-5 già motiva fortemente le aziende a fare uno switch del loro impiego del palladio switcharlo in platino siamo all'interno dell'automotive cioè dell'impiego automobilistico dove nel corso del tempo una volta tutti i catalizzatori erano fatti col platino poi dopo di che per i motori a benzina si era passati al palladio palladio perché costava meno costava meno ancora di quello che costa oggi il platino nel corso del tempo proprio questa grande domanda del mercato automobilistico ha fatto sì che i prezzi salissero salissero molto quelli del palladio ecco che oggi si ritorna a parlare quindi di un impiego del platino per 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 le diciamo le le marmitte catalitiche anche dei veicoli a benzina si parla del platino come catalizzatore per la produzione di idrogeno verde che è quello derivante da da processi catalitici e quindi a questo punto le quotazioni che erano sostenute soltanto dagli acquisti l'etf cominciano a trovare anche degli altri acquisti è probabile che ci troveremmo oggi siamo ancora in una situazione di surplus di platino ma che ci troveremmo in deficit anche a causa di una riduzione delle produzioni delle miniere nel sudafrica per quanto riguarda il palladio il palladio è in deficit di produzione ma le prospettive proprio per questo switch sono di un surplus in futuro e qui invece potremmo avere poi dopo anche una componente negativa derivante proprio da una possibile liquidazione degli etf che sono posseduti dagli investitori andando al grafico platino molto tonico nelle ultime settimane il fatto di superare mille sempre il valore di mille dollari l'oncia è sempre un grande boost vediamo se riuscirà a mantenersi al di sopra di di questa linea orizzontale che vi ho messo rossa ma tutto sommato eventualmente anche un ribasso sino a 900 non cambierebbe l'impostazione rialzista che diciamo continua a permanere sin da marzo da marzo scorso per quanto riguarda il palladio invece voi vedete una situazione statica il mercato si sta interrogando sulle prospettive del palladio e quindi in qualche modo vedremo ma certo che oggi come oggi è molto più favorevole diciamo un guardare al platino che che al palladio io a questo punto ho terminato questa parte e quindi cedo il microfono e la parola a Graziella grazie Maurizio beh pensando ai nostri quattro moschettieri oro, argento platino e palladio mi viene uno slogan banale ma ma spontaneo noi di Oriovilla ce li abbiamo tutti per cui voglio dire come dici tu metterli tutti insieme in un pack magari perché no e il nostro prevede non soltanto oro ma anche argento platino e palladio perché no pensiamoci quindi sempre convertibili ovviamente in lingotti qualora lo voglio poi fisicamente prelevare oppure in denaro se ho bisogno di liquidità e voglio switchare uno con l'altro per esempio quindi mi viene da consigliarvi questa cosa e tra l'altro nel mondo della gioielleria negli ultimi tempi sta rilanciando effettivamente le leghe preziosi in platino se pensiamo che una volta il platino era in assoluto il metallo prezioso più caro rispetto anche all'oro e ha perso tantissimo del suo valore anche se poi effettivamente come mercato mondo gioielleria ovviamente soprattutto nel mondo asiatico l'oro fa sempre da padrone per tradizione quindi il metallo e la materia prima per Antonio Malzio anche molto significativo quanto sta succedendo in Uzbekistan dove la banca centrale sta iniziando a vendere piccoli lingotti per fare in modo che tutti i cittadini possano acquistare oro fisico quindi da una parte banca centrale mi copro di oro per coprire il mio rischio valuta creo un oro come valuta parallela e poi quando ho bisogno di liquidità per vari miei motivi lo liquido perché comunque ho bisogno di avere valuta penso che sia esattamente il concetto che ognuno di noi dovrebbe avere in qualche modo quindi ecco perché la funzione del loro fisico effettivamente possa essere utile e niente io direi però come succede in ogni fine anno abbiamo poi la chicca che ci riserverai quindi il nostro oroscopo 2021 ma prima dell'oroscopo 2021 ritornerei alle nostre prospettive con una panoramica della macroeconomia e di geopolitica e successivamente appunto aspettiamo la tua sessione speciale di conclusioni di fine anno e di prospettive di investimento per il 2021 quindi ti ripasso la parola bene grazie Graziella allora vado nuovamente a condividere il mio schermo un attimo solo ecco qua allora partiamo dalle notizie Brexit a che punto siamo io quando quando abbiamo fatto il programma di questa di questa talk pensavo davvero di riuscire a darvi qualche novità in realtà le novità non ci sono la cena di mercoledì sera tra Boris Johnson e Ursula von der Leyen non ha dato sviluppi oggi la von der Leyen ha detto che il no deal è più probabile quindi di attendersi di fatto un no deal io non so se questa cosa qui come può essere nel senso che ci sono dei temi all'interno di questa contesa che sono quelle che voi vedete ne avevamo già parlato in passato la concorrenza degli aiuti di Stato quindi la tariffa delle merci i confini con l'Irlanda dove posizionano i controlli doganali e poi una non questione quella della pesca delle acque territoriali che vale lo 0,1% del PIB del Regno Unito i mercati in questo momento ci stanno dicendo che c'è il no deal questo è quello che ci stanno dicendo però torno a rivedere tra l'altro quello che c'è in real time sì è esattamente nella medesima posizione quindi questo è quello che stanno dicendo i mercati scusate vado a riposizionare la slide da un altro lato mi viene da pensare che probabilmente anche la faccia di Boris Johnson potrebbe puntare a un discorso che sembra un no deal ma che dietro ci sono dei negoziati o dei negoziati che comunque proseguiranno nel 2021 magari si parte con il no deal e poi magari si prosegue oppure che ci sono già dei punti fermi che andranno poi discorsi certo è che il no deal crea un grosso danno il maggior danno è per il Regno Unito soprattutto le aziende nel Regno Unito che dovranno esportare hanno dei grossi problemi ciò che dovranno importare hanno dei grossi problemi e quindi staremo a vedere come potrà evolvere questa cosa io direi ancora di tenere aperte tutte le strade in qualche modo però cercare anche di decodificare quando verrà fuori la notizia se effettivamente è una notizia di no deal come immagino potrà essere ma se in realtà non nasconde comunque una parte di accordi perché questa potrebbe essere diciamo la soluzione finale al momento per quel che riguarda l'economia il 2020 queste sono le diciamo le ultime stime dell'Ocse fanno vedere che l'unico l'unico stato l'unica nazione che è positiva è la Cina con un più 1,8% e con un'accelerazione nel 2021 all'8% del PIL staremo a vedere perché poi sempre con la Cina bisogna mettere diciamo molta cautela vediamo l'Italia meno 9,1% estimato dall'Ocse gli studi voi sapete la mazzeria fa delle stime sono almeno 8,8% ma per l'Italia poi un recupero del 2021 al 4,3% vedremo se questo sarà il caso sempre parlando di Cina voi vedete grafico a sinistra un forte recupero comunque anzi non solo un recupero ma un incremento di quelle che sono diciamo le prospettive sui servizi e sulla manifattura ahimè non è così per il Regno Unito e l'Eurozona dove sembra che il rimbalzo sia di fatto terminato la Cina la Cina porta ha portato negli ultimi tempi che ha un rialzo generalizzato non solo di molte materie prime mi viene da pensare ad esempio alla soia un rialzo che si è al momento raffreddato un po' ma soprattutto dei metalli industriali vediamo qui di fatto rame alluminio il ferro quindi tutti i metalli che sono andati molto molto a rialzo c'era una domanda che c'era stata posta da un iscritto riguardo le prospettive per il rame ma diciamo che il rame in questo momento è comunque visto anche come stanno andando le borse allora queste barre sono barre mensili di fatto ecco è comunque in una fase di riflessione ma io direi che da questo 3,51 dollari per libra si potrebbe arrivare anche a 3,80 questi 3,51 dollari per libra corrispondono di fatto ai 7,800 dollari per tonnellata si potrebbe arrivare a 3,80 però a 3,80 poi dopo ci sono delle difficoltà voi vedete questo è un grafico degli ultimi 20 anni e voi vedete che tutto sommato il massimo è stato toccato nel 2010 a 4,60 c'è ancora molta strada questo significherebbe un apprezzamento di ulteriore 25% io non credo che questa cosa possa andare in questo modo immagino che la zona dove potrebbe arrivare questa qui tra 3,80 e 4 va detto che però il buono già è stato diciamo preso dal rame quindi entrare a questi livelli è estremamente estremamente pericoloso la produzione industriale italiana dopo un forte dopo il forte calo il meraviglioso recupero del 41% a maggio aveva ne avevamo già parlato di questo aveva di fatto raggiunto i livelli sorpassato i livelli di inizio gennaio ma raggiunto i livelli del gennaio 2019 all'incirca si era avvicinato a quella a quella zona ecco che ora invece diciamo ha un po' di vuoto d'aria il dato di oggi è stato un dato positivo perché ha presentato una produzione industriale in crescita dell'1,3% dopo il mese precedente il mese di settembre che era stato del meno 5,1% però comunque diciamo sta segnando un po' il passo la BCE ieri ha indicato una prosecuzione un ampliamento del programma PEP che è il programma di acquisti pandemici quindi si passa dai 1.350 miliardi che erano programmati sino a giugno 2021 ai 1.850 miliardi con un incremento di 500 miliardi sino a marzo 2022 questo prolungamento di nove mesi porta degli acquisti soltanto determinati dalla PEP che vedete in questo grafico con questi istogrammi tratteggiati in rosso che quindi come vedete come ampiezza sono quelli che fanno da padrone negli acquisti della BCE acquisti per 72 miliardi che si associano ad altri all'incirca 20 miliardi del programma naturale di quantitative easing c'era un'ulteriore espansione di 12 miliardi al mese che però è terminata va a terminare in questo mese gli acquisti sono talmente tanti anche sui titoli di Stato italiani che ormai la banca centrale detiene il 24,5% quindi un quarto di tutto circolante dei titoli di Stato italiani ciò nonostante tra l'altro vi devo dire che dall'Europa abbiamo avuto anche un diversi già alcuni miliardi 16,50 miliardi che vanno a alimentare finanziare quella che è la cassa integrazione siamo la nazione che ne ha ricevuto più di tutti e oggi finalmente è stato tolto il veto da parte di Polonia e Ungheria sul bilancio dell'UE naturalmente il bilancio adesso dovrà fare un passaggio al Parlamento europeo però di fatto ricorderete che l'oggetto del contendere era il fatto che se gli stati che violano lo stato di diritto e quindi non rispettano l'indipendenza della magistratura la trasparenza di governo diritti alle minoranze e gli oppositori politici in quel caso lì ci sarebbe dovuto essere il blocco dei fondi UE va detto che questo stato di diritto è stato una condizione sine qua non per entrare nell'Unione Europea quindi di fatto questi paesi Polonia e Ungheria si trovano nella condizione di aver sottoscritto il rispetto di questo stato di diritto però di fatto di non rispettarlo qual è stata la mediazione fortemente voluta dalla Merkel noi dobbiamo fare un monumento alla Merkel che in questo suo periodo questo semestre di presidenza ha dato davvero il meglio e noi italiani dobbiamo essere grati per quello che è riuscita a mettere in campo riuscendo a portare dalla sua parte anche la Francia ricordo che noi siamo i maggiori beneficiari del Next Generation EU ne prenderemo potremmo prendere 209 miliardi allora qual è stata la mediazione a Merkel che per fermare l'erogazione nei fondi servirà il parere della Corte di Giustizia Europea che cosa fa questo di fatto viene depotenziato proprio quel requisito di stato di diritto che era stato posto dagli stati frugali quindi di fatto una cosa che poi passerà alla Corte di Giustizia ci vorranno tanto tempo insomma in qualche modo viene annacquata così diciamo questo confronto passiamo al discorso del MES voi sapete in questi giorni anche in Italia si parla molto della riforma del MES che cos'è il MES ma di fatto è un meccanismo che è stato creato è un meccanismo intergovernativo che di fatto è come se fosse un sovra come potrei dire sovragovernativo è diciamo regolamentato da dei trattati internazionali quindi va addirittura al di sopra delle singole legislazioni delle nazioni e che ha una capacità di finanziamento di 500 miliardi di fatto per come è fatto oggi è un salva stati e quindi determina le condizioni di salvataggio dello Stato un salva banche perché è legato all'Unione bancaria europea e quindi alle condizioni di salvataggio delle banche e un salva covid perché ricordo che è stata data disponibilità ad avere finanziamenti fino al 2% del PIL del 2019 una cifra che per l'intera area euro era di 240 miliardi è di 240 miliardi che sarebbe stato di 36-37 miliardi per l'Italia l'Italia ha deciso finora di non utilizzare questo salva covid e quindi diciamo niente non entro su ne avevamo già parlato di questa cosa vediamo gli aspetti della modifica perché sono aspetti rilevanti soprattutto per quel che riguarda la parte di salva stati una il fatto delle linee di credito che possono essere concesso a uno Stato che si trova in difficoltà quindi che si trova vicino al default in quel caso allo Stato viene imposta una condizionalità e la condizionalità è quella che lo Stato si impegna a mantenere quei requisiti che aveva quindi non a deteriorare i conti ulteriormente ma anzi deve rafforzare questi criteri di sostenibilità quindi di fatto è diciamo vuoi le linee di credito hai un commissariamento da parte dell'Unione Europea magari un commissariamento Microsoft però di fatto ci sono delle clausole molto stringenti un'altra è la clausola di azione collettiva che sono state già lanciate alcuni anni fa e che disciplinano le modalità di ristrutturazione del debito quando si parla di ristrutturazione del debito significa default il fatto che i titoli di Stato cambiano le loro caratteristiche possono cambiare nel senso della data di rimborso della quantità del rimborso della valuta del rimborso dell'interesse che viene pagato e quindi tutti questi parametri prima avevano bisogno di due votazioni una per l'intero ammontare dei titoli di Stato due per le singole emissioni allora quest'ultima viene tolta e quindi rende molto più facile le modalità di voto per i possessori nei momenti di ristrutturazione vi faccio presente che il 24 per cento è già il 24,5 per cento è già in mano alla banca centrale dei titoli di Stato un altro basterebbe un altro 30 per cento in mano alle banche che chiaramente non si possono opporre qualora lo Stato dice che si deve andare in una certa direzione e che a questo punto diciamo il default o la ristrutturazione del debito se volete dei titoli di Stato sarebbe fattibile salvo banche è l'istituzione di un backstop per il fatto che siccome viene anticipato al 2022 questo discorso di salvare le banche le banche dovevano contribuire con un fondo speciale ad alimentare diciamo una riserva per questo fondo speciale potrebbe non essere sufficiente quindi il backstop è proprio quello di creare di dare comunque i finanziamenti qualora non ci siano adeguati fondi bancari per il salvataggio delle banche in questo caso non sono previste comunque delle condizionalità a carico dello Stato per quel che riguarda il salvecovid ne abbiamo già parlato non c'erano condizionalità se non il rientro nel patto di stabilità al termine del periodo di pandemia ma è un rientro che comunque avverrà per tutti gli stati tutti gli stati saranno tenuti a rientrare nel patto di stabilità nel frattempo i rendimenti a causa di questi acquisti della banca centrale continuano a scendere il portogallo per il decennale è andato a finire a zero non è così per noi perché noi siamo ancora a 0,56 teniamo uno spread di 119 punti e guardate siamo il terzo peggiore perché se andiamo a vedere abbiamo davanti a noi l'Ungheria e la Repubblica Ceca dopodiché tutti gli altri Spagna ha un vedete sul decennale un 0,01 il Portogallo quest'oggi aveva meno 0,04 quindi è andato in negativo il Portogallo e la Spagna sta per andare anche a lei in negativo noi abbiamo ancora un bel 0,56 prima di andare con il nostro decennale in negativo un altro elemento da considerare è il dollaro in indebolimento è un indebolimento che è molto controverso la comunità finanziaria è proprio spezzata in due potrebbe potrebbe durare secondo me per portarsi a 1,22 quindi poca cosa o al massimo 1,25 vedremo un po' come potrà essere però questo diciamo favorisce anche il concetto delle aspettative di infrazione aspettative di infrazione che sono già piuttosto evidenti nei Stati Uniti con un 1,89% e invece un pochettino più modeste per 0,94% per la Germania in questo momento i dati comunque indicano ancora valori di infrazione negativi ma sono valori diciamo che sono un pochettino diciamo condizionati dal fatto dal fatto che i beni energetici presentano un'infrazione estremamente negativa ancora diciamo abbastanza in basso intorno al meno al meno 10% o diciamo una cifra che è tra il meno 6 e il meno 10% e invece ci troviamo con i beni alimentari che ad esempio in Italia sono cresciuti dall'inizio anno del 2% con dei picchi a maggio del 3% sono nella parte sto andando velocemente verso la parte finale della della nostra della nostra presentazione notizia di oggi Marocco riconoscerà Israele quindi diciamo passano a 4 i paesi arabi che riconoscono Israele a fronte di questo c'è stata comunque una mediazione americana e un riconoscimento di tutta quella porzione che è il western del Sahara occidentale che era una ex colonia spagnola che era stata occupata dal Marocco ma contesa dal fronte polisario che è un gruppo che è sostenuto dalla vecina Algeria qui di fatto gli Stati Uniti riconoscono il fatto che sia territorio di competenza del Marocco e quindi chiaramente il Marocco in qualche modo farà in modo di porre in difficoltà diciamo questa il fronte il fronte polisario quello che l'aspetto positivo da vedere è il fatto che sempre più paesi arabi fanno accordi con Israele e presto forse ci sarà un accordo anche con l'Arabia Saudita ricordo che c'è stato un incontro ad esempio tra il principe saudita e Netanyahu quell'incontro era probabilmente finalizzato a quell'attacco che era stato fatto nei confronti dell'Iran però in qualche modo diciamo si sono parlati l'ILVA ritorna dopo 25 anni allo Stato sarà un'altra bella azienda che noi avremo con le finanze pubbliche insieme a Montepaschi e ad Alitalia a guidarla sarà Invitalia il cui diciamo il cui amministratore delegato è Domenico Arcuri sì proprio Domenico Arcuri che è la persona che si deve occupare anche dei vaccini che si deve occupare dei banchi di scuola eccetera eccetera la modalità è un aumento di capitale da 400 milioni di euro quindi soldi pubblici che vanno per acquistare l'ILVA e poi per salire al 60% quindi un secondo aumento da 680 milioni a fronte di un 70 milioni che verserà ancora ArcelorMetal per togliersi questa 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 piaga che questa esperienza sicuramente negativa per per loro il progetto il progetto è un progetto di decarbonizzazione dell'impianto di Taranto quindi produzione con processi meno inquinanti è probabile che dei fondi del Next Generation EU andranno a questo scopo infine una curiosità avevamo parlato 15 giorni fa di un iceberg che sembrava che riuscisse a sfiorare quindi a non colpire la Georgia del Sud invece no si trova a 120 km voi vedete l'evoluzione nel corso del tempo a un certo punto c'era stato questo shift infatti avevamo parlato di questo shift che riusciva probabilmente a ruotando ad evitare la Georgia del Sud tenete presente che questa è una placca che è in viaggio dal 2017 ed è grande più o meno come la Georgia vedremo quale tipo di impatto c'è è anche pur vero che la Georgia è diciamo fittamente abitata da pinguini da foche e ha 32 abitanti basterà fare un volo charter però certo comunque è una situazione diciamo mai vista questa questa qua ecco che a questo punto diciamo vado su quella che è la chicca della della giornata intanto che fare cosa succederà di fatto non c'è non c'è alternativa ed è per questo che vi dico che anche qualora ci fosse un forte ribasso durerà poco ma poi dovrà riprendersi e non c'è alternativa infatti quel tina che voi vedete è there is no alternativa non c'è alternativa il premio di rischio è estremamente favorisce la detenzione delle delle azioni perché di fatto le azioni rendono come utili di più di quello che può rendere il treasury americano e quindi diciamo che il divario è piuttosto è piuttosto notevole ci sono quattro punti e mezzo almeno e quindi di fatto i soldi vanno a dirigersi verso il mercato azionario comunque in ogni caso quindi non è detto che i ribassi dureranno tanto e non è detto che interessino anche tutto il mercato perché ci potrebbero essere delle diciamo delle rotazioni ultima slide della serata chiaramente qui diciamo buonsenso mi obbliga a farvi presente che queste sono delle mie opinioni sono rivolte a un pubblico indistinto quindi non possono considerarsi dei consigli personali non solo ciascuno è responsabile per diciamo le conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo di queste mie opinioni io chiaramente ho posizioni sui mercati finanziari perché se no non sarebbe neanche giusto che io vi parlassi di cose che non conosco e che non pratico io pratico i mercati finanziari faccio investimento dei miei dei miei denari e quindi quello che io vi dico potrebbe essere in conflitto di interesse ovviamente perché prima diciamo di dire una cosa queste sono opinioni in cui credo fermamente necessariamente non ho la palla di cristallo quindi non è detto che queste si verifichino però chiaramente io ho preso delle posizioni sui mercati allora e da lì deriva esclusivamente da lì deriva il mio conflitto di interesse per quanto riguarda le obbligazioni allora io ho scelto di privilegiare i titoli legati all'inflazione meglio quelli degli Stati Uniti perché ci sono dei rendimenti maggiori ma a questo punto ho cercato di fare un cambio coperto nello specifico ho usato degli ETF per questa cosa c'è una finestra ancora positiva piuttosto positiva per gli I-Yield gli I-Yield sono di fatto quelle aziende che si trovano quindi le obbligazioni delle aziende che si trovano in reti speculativo quindi al di sotto della tripla di meno questo significa che hanno una possibilità maggiore di fallire però se questo tipo di investimento lo si fa a compagniere diversificati ovviamente e ancora una volta mi riferisco agli ETF ovviamente il rischio diciamo in qualche modo si diluisce un po' il fatto che io veda delle opportunità per gli I-Yield è perché danno un rendimento maggiore rispetto ai rendimenti che sono compressi altre opportunità sono nel comparto del debito emergente in particolare con le emissioni in valuta locale piuttosto che le emissioni in dollari in questo caso non proprio perché si va sulla valuta locale si punta su un recupero della valuta locale del singolo stato emergente e quindi su lì non ci deve essere di fatto la copertura per quel che mi riguarda per quel che io penso sul lato delle azioni sul lato delle azioni è diciamo consigliabile mantenere comunque una buona liquidità che nel caso i mercati cadano può essere impiegata e poi cercare di ribilanciare un po' il portafoglio tra titoli growth e value i titoli growth sono di fatto i tecnologici i biotech e così via i value sono i business vecchi e se volete noiosi anche se il mercato si sta un po' interrogando sul concetto di growth e value ma quello che importa è quello cercare di guardare individuare delle aziende che innovano e che si informatizzano e che comunque continuano a fare degli utili che sono continuativi negli anni e possibilmente in crescita i settori che penso di interesse a mio modo di vedere sono il biotech salvo un vuoto d'aria che probabilmente arriverà tra poco le materie di base quindi abbiamo visto quindi anche le aziende che di fatto estraggono oppure che lavorano le materie di base abbiamo visto i metalli e così via i beni di consumo e in parte io sto vedendo un piccolo accenno di recupero dei finanziari negli Stati Uniti per quel che riguarda i finanziari in Europa e Italia ancora io personalmente non mi fido molto molto interessanti invece le small cap che erano rimaste indietro nel recupero soprattutto anche negli Stati Uniti questo è avvenuto ma anche in Italia e anche in Europa le small cap sono rimaste indietro quindi potrebbero essere un'opportunità oro e preziosi l'oro abbiamo visto che sono sempre possibili dei ripiegamenti che sono momentanei e anche talvolta coincidenti in parte con i ribassi azionari è bene privilegiare in una situazione di questo genere quella del piano di accumulo per quel che riguarda l'argento vi avevo già detto che verrà trainato nel caso di rialzo dall'oro e poi lo potrà sovraperformare in un secondo tempo e poi riguardo a platino e palladio la preferenza del platino rispetto al palladio e con questo io ho terminato la mia mi scuso se sono stato piuttosto lungo ma c'erano tante tante cose insomma su cui trattare insomma grazie Maurizio quindi a questo punto Oscar tutto tuo bene grazie saluto anch'io ovviamente non sono riuscito a farlo all'inizio di intervenuti e permettetemi di continuare a questo approfondimento mi complimento come sempre sono il primo fan di ovviamente di Maurizio questa volta sono riuscito a affassionarmi anche alle trend line che se non sbaglio si dice così e quindi riuscire bene a vedere i punti di resistenza i punti di massima e tutto il resto sono stato veramente poi un sistema fantastico di spiegare le cose di entrare praticamente come si dice in questi casi sul pezzo senza annoiarci mai bene io dico cosa devo trarre velocemente come conclusioni alcune dalla tua presentazione vedo che effettivamente per capire come sarà un po' l'autor dell'oro faccio il consulente non finanziario ma il consulente diciamo così a protezione del risparmio esperto in oro ovviamente parliamo di oro fisico che è un po' la mission che ha l'oro villa quindi vediamo che c'è un alert della tua spiegazione già sulla borsa americana però poi alla fine diciamo anche attenzione non c'è soluzione alla fine se le azioni rendono e si torna a investire su questo modo però ci sono dei segnali è giusto coglierli e tu ce l'hai spesso ricordato nelle tue presentazioni la BCE amplia il programma di acquisti PEP ecco mi verrebbe Pippa ma non c'entra però voglio dire è anche questo un altro segnale per capire come vanno le situazioni quindi vuol dire debito è giusto vuol dire stampare monconotte e vuol dire svalutare tra virgolette tutti i discorsi che probabilmente è situazione che a loro fanno comodo che sicuramente ci servirà poi ricordare le banche centrali se qualcuno lo avesse un po' dimenticato sono tornate ad essere acquirenti nette quindi vuol dire che questa protezione comunque è significativa e questa protezione ha un suo concreto una sua concretezza io dico sempre se coloro che dominano il mondo col denaro con le banconotte ricorrono a loro per garantirsi la sanno lunga e quindi devo dire un occhio di riguardo anche a loro e questo segnale che viene da lì è sicuramente un segnale significativo è vero stiamo scendendo le vendite in oro giustamente abbiamo un mercato quotato quindi si vende regolamentato diciamo e quindi vuol dire che se l'oro scende qualcuno sta vendendo ci sono tanti che non ci credono probabilmente sono arrivati sull'onda di prendersi dei benefici chiamerei un po' vicino un po' il concetto della speculazione probabilmente hanno comprato solo dei certificati della carta del fisico che li rende ancora più snelli a fare queste operazioni però c'è anche tanta gente che io entro a contatto durante il giorno nella mia normale attività dove vendono perché hanno bisogno di liquidità e quindi la tentazione poi fate caso quando l'oro arriva verso i 50 48 48 47 50 si comincia un po' a vendere sono giustamente necessità e uno ha bisogno di tornare alle liquidità prendono le presi di beneficio gli piace pensare come tu c'è ben spiegato anche queste società di gestione del risparmio che invece sanno bene cosa fare e quando vedono che l'oro consente una bella presa di beneficio immediata lo fanno con tanta disinvoltura per poi tornare probabilmente a riprovisionarsi in termini più tranquilli e più comodi e come ultimo diciamo così fiorellino sulla torta abbiamo beccato un nuovo carrozzone che è l'ILVA perfetto fantastico se non ti viene la dermatite a te Maurizio con tutto aumento del debito pubblico aumento del carrozzone e tutto il resto mi aspetto anche qualche attacco di prurito perché effettivamente non si capisce niente e si continua ad andare in una direzione che mi viene da pensare sarà veramente difficile lasceremo un'eredità ai nostri figli quasi quasi mi viene anche da pensare nipoti se continuiamo perché ci stiamo indebitando portiamo a casa successi solo perché sappiamo incrementare un debito e invece le strategie di come puoi andare a spenderlo vedo che ancora sono latenti anzi abbiamo tu mi hai dato l'informazione che non avevo il nostro commissario straordinario si prende in carico anche questo tipo attività lungi da me entrare in contesti politici sono pure osservazioni quindi diciamo da quello comparato stasera loro può stare tranquillo non come diceva Renzi per chiuderla in politica ma può stare veramente sereno perché continuerà a esercitare un ruolo abbastanza significativo e fondamentale questo lo dico per chi ha ancora dell'etitubante quindi diciamo il mio compito giornaliero è sempre quello di far capire le persone l'importanza di possedere oro fisico e poi come Orovilla offriamo soluzioni per questa importanza e per questa protezione del risparmio poi velocemente dirò anche queste situazioni i nostri investitori sostanzialmente sono di due categorie abbiamo l'investitore tradizionale abbiamo il risparmiatore ci sarebbe anche lo speculatore che però non approccia con l'oro fisico ma entra normalmente con l'oro finanziario fa le sue operazioni quindi ci interessiamo solo per poterlo convertire a pensare un pochino anche con un po' di lungimiranza e non essere solo diciamo così toccata in fuga però questo è un discorso un po' più complesso certo rimaniamo volentieri sugli investitori e risparmiatori diciamo che il risparmiatore è quello che più ci interessa nel nostro DNA perché risparmio vuol dire accantonare vuol dire accantonare per qualcuno piccole medie modeste cifre noi nei nostri conti in oro e poi entrerò nello specifico abbiamo veramente tanti giovani questo mi fa veramente piacere abbiamo tanti giovani che vedono nell'oro fisico nel piano di accumulo poi entreremo anche nel conto in oro nel piano di accumulo un sistema graduale per poter arrivare a una riserva puntano ovviamente sul fatto di essere giovani sul fatto di poter accantonare sul fatto di non avere problemi su una quotazione entrano avranno una quotazione media poi immaginiamoci in un anno avrai una quotazione media immaginiamoci in 4, 5, 6 anni e la quotazione media riporta sempre un po' pareggiare le cose a parità di cifra avrò più oro quando questo oro vale un pochino meno avrò un po' meno oro quando questo oro valerà un pochino di più però alla fine i conti tornano sempre perché ho fatto diciamo così il risparmiatore ci sta particolarmente a cuore proprio per questa filosofia vado a cantono e voglio avere a disposizione questa cifra accantonata in un futuro se avrò dei bisogni delle necessità e quindi fondamentalmente è molto sensibile ad avere giustamente nessun rischio dice ora è ritrovarmela questa cifra accantonata ma soprattutto vorrebbe mantenersa con il suo potere d'acquisto e quindi coperta dall'inflazione e non solo gli offriamo anche la possibilità tutto nel nostro pacchetto di oro fisico di avere anche un bene rifugio con l'oro fisico e qui ci rendiamo subito conto di cosa fa di cosa incide il bene rifugio cinque anni fa un grammo d'oro era 32 euro circa 32 euro qualcosa oggi un grammo d'oro è 48,89 sicuramente senza la pandemia senza questa grande crisi economica non sarebbe l'oro 48,89 però grazie a Gloria lui è oggi a 48,49 quindi sta assolvendo il suo concetto di bene rifugio perfetto quindi questo tipo di risparmiatore di investitore ci sta particolarmente a cuore perché è molto delicato sono giovani non possono essere disillusi e devono avere tutte le loro opportunità ma parliamo anche all'investitore e so che le nostre talk sono seguite anche da molti consulenti finanziari loro sì che sono veramente consulenti finanziari e quindi hanno il compito il dovere di aiutare le persone a capire spesso io quando parlo con i consulenti finanziari mi capita anche io lo caldeggio molto questa possibilità l'incontro tra il consulente e il suo cliente poi vedremo nei servizi oggi lo facciamo anche con la digitalizzazione tramite delle video col mirate ricordatemi che poi ve le dico velocemente e quindi diciamo questi consulenti finanziari che hanno effettivamente il il compito difficile di indicare la strada allora questi consulenti che giustamente quando vanno a contatto con un investitore tradizionale l'investitore cosa dice ho già un patrimonio più o meno accantonato voglio metterlo a rendita voglio un po' capitalizzare giustamente quello che sono i benefici voglio avere una rendita quindi questo tipo di investitore è molto sensibile a delle cedole a un pagamento di interessi a dei dividendi se avessero un patrimonio immobiliare anche agli affitti perché no tutte cose leciti e fantastiche vedono l'oro solo come un equilibratore cioè un qualcosa che dice più è esposto nel mondo finanziario questi consulenti mi dicono noi compriamo oro e questo oro va a equilibrare un pochino questo conto se scende il mercato i mercati scendono fanno le bizze come capita spesso l'oro sale e va un pochino a equilibrare le cose e in più non disdicono anche questo concetto di bene rifugio nel senso che se risente anche l'oro finanziario dell'andamento è ovvio che anche il certificato che io ho fatto in oro le tf le tc secondo se sono indici o commodity comunque replicherà questo vantaggio questa opportunità e spesso non hanno voglia di entrare nella dinamica dell'oro fisico perché vogliono vivere un po' in un'area di comfort che è quella che gli mette a disposizione il suo strumento quindi l'oro finanziario giocano perfettamente in casa conoscono tutti i misteri e tutte le soluzioni e hanno molta velocità però dimenticano che avere ovviamente oltre all'oro fisico oltre all'oro finanziario quindi cosiddetto di carta come amano a dire tanti miei clienti il fatto di avere dell'oro fisico a protezione comunque di un patrimonio ti dà la possibilità di godere in prima istanza dei benefici di questo bene rifugio e poi vedremo come faccio come faccio a garantirmeli questi questi benefici diciamo così in prima istanza quindi l'invito che voglio fare è proprio questo ai nostri amici consulenti finanziari chiamateci chiedeteci consultateci vi diamo aree di comfort eccezionali perché abbiamo l'esperienza giusta per potervi supportare o supportare i vostri clienti con tutti gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione e con tanta esperienza e capacità non dimentichiamo che noi siamo una metallurgia quindi siamo una realtà industriale per cui abbiamo delle radici molto solide non siamo dei broker non siamo dei rivenditori ma produciamo in proprio mettiamo la nostra faccia lo facciamo da tre generazioni e credo abbiamo una forte capitalizzazione e quindi credo che tutti questi servizi che andiamo a offrire abbiano un grande senso di concretezza soprattutto su programmi e progetti a medio termine tutti facili non toccate fuga ti vendo forse un miglior prezzo e poi chi lo sa Dio se lo costudierò con tutti i criteri se ti sarò noi garantiamo sempre il riacquisto in qualsiasi momento anche questi sono aspetti che tante volte sono trascurati io incontro tante volte diciamo così persone ma poi mi dicono ma poi dove lo vendiamo quest'oro a chi ci rivolgiamo oro villa compra oro tutti i giorni e ha come riferimento il mondo lo compra nella massima trasparenza quindi diciamo una volta che abbiamo così un attimino accennato abbiamo detto i nostri servizi poi vado un attimino velocemente a dirveli il conto in oro è uno strumento fantastico ho visto che nella slide anche Maurizio accennava a questa possibilità del piano di accumulo allora il conto in oro time capsule noi lo chiamiamo così è il nostro strumento ideale per sviluppare un pack perché è uno strumento ideale? è la miglior risposta che si può avere perché può andare ad interagire con due mondi il mondo che ci sta molto a cuore che è il mondo del risparmio che tramite il pack ha questo strumento per crearsi una riserva veramente con tanta ma tanta libertà perché perché oggi con un minuto di documentazione catentità codice fiscale riesco a aprire un'adeguata verifica come la compliance prevede riesco a aprire un conto in oro in pochi minuti una volta con questo conto in oro ovviamente è flessibile quindi vuol dire che nella mia piena libertà autonomia posso destinare una cifra che posso incrementare nel tempo a mio piacimento come voglio quando voglio senza penali senza sentirmi ovviamente costretto a nessun tipo di azione ho una riserva ovviamente di liquidità certa e quindi questa flessibilità mi permette anche se un indomani lo vedremo ho necessità di poter monetizzare questa liquidità che ho in oro fisico qui mi viene da dire concreto il nostro piano perché essendo il nostro conto in oro essendo oro fisico non è un qualcosa di finanziario ma è un qualcosa all'interno di un quantitativo non avrò in una custodia i miei 100 grammi d'oro che ho accumulato nel giro di qualche mese o di qualche anno dipende poi da quello che uno riesce a destinare quindi non ho questo sacchettino lì ma è all'interno di una riserva di oro dedicata ai conti in oro in attesa che il nostro cliente ci dica cosa farne che pezzature vuole oppure quanto ne vuole monetizzare quindi veramente una grande flessibilità sempre disponibile come tipo di strumento Geratiela precisava che addirittura l'abbiamo allargato in quattro metalli preziosi argento platino palladio vi ricordo che ovviamente gli altri metalli hanno quello che si vuol dire e quindi giustamente hanno un mercato molto più industriale e l'iva ci dica l'oro invece è anche attiva questa è una costa non dimenticare e non ha nessuna ovviamente dichiarazione di possesso da fare a tutt'oggi e sarò soggetto di svolenza solo quando andrò a venderlo quindi non è anche nessun costo avere un etf mentre lo detengo qui il costo è solamente se giustamente ho un lingotti che devo far custodire in una custodia privata avrò il costo della custodia ma il conto in oro è esente da qualsiasi tipo di costo a una massima trasparenza perché le quotazioni sono presenti in ogni fase del nostro acquisto sappiamo quanto stiamo comprando e sappiamo quanto stiamo vendendo queste ovviamente quotazioni sono tratte dall'andamento di borsa quindi con un aggiornamento mi viene da dire ogni dieci minuti giusto per dare la possibilità a chi sta inserendo un ordine di avere la tranquillità di inserirlo al prezzo che ha visto giustamente e questo mi dà anche una grande trasparenza non devo cercare un mercato e non devo sapere cosa vale il mio diamante è preso con tanto amore e tanta energia ma la mia materia prima è il mio oro e lì so cosa vale schiaccio un bottone chiedo la loro villa la loro villa me lo compra ovviamente nel rispetto di tutto quello che sono le prassi e di tutto quello che sono le compliance da fare per fare tutto in totale sicurezza e trasparenza è libero perché dipende solo da me da me che l'ho aperto lo apro lo chiudo aumento la mia rata la diminuisco salto un mese incremento un mese oltre alla rata lo trovo un momento favorevole voglio aggiungere liquidità estremamente sicuro perché è un nostro piattaforma e dispositiva dietro ci sono sempre persone non solo i consulenti se no giustamente produrremo poco ma abbiamo anche un comparto produttivo di contanto di direttori di stabilimento e diciamo così e manager responsabili Graziella è uno di questi nostri casi lei poi non lo dice mai ma effettivamente nel comparto delle materie prime è il nostro responsabile e quindi qualcuno lo avete anche conosciuto e quindi questa sicurezza è data proprio anche da quello che sono giustamente le certezze e le garanzie che un'azienda che opera in questo settore praticamente da 50 anni no dagli anni 50 quindi ormai sono quasi 60 anni e devo dire la terza generazione non ha mai cambiato casacca la dice lunga anche sulla tranquillità che possiamo fornire e dare allora vi dico i servizi i servizi velocissimamente abbiamo visto oltre alla custodia per chi ovviamente poi realizza il suo lingotto vuole essere tranquillo e sereno diamo anche i servizi su delle valutazioni sulle perizie sulle stime dove quando dipende da noi ovviamente ci rivolgiamo siamo in prima persona a farlo poi come sapete non siamo tutologi ma quando abbiamo bisogno del parere di altri esperti abbiamo esperti di numismatica che collaborano con noi anche se la numismatica abbiamo anche tanto da dire perché abbiamo la nostra new generation molto sul pezzo Liviero Villa che di grande passione ha tradotto nelle monete basta vedere il nostro sito e vi rendete conto di come dietro ogni moneta c'è una storia come dietro una storia c'è una zecca quindi una documentazione che a leggerla ci vuole 5 minuti ma a raccontarla bisogna informarsi documentarsi e poi andare tra le righe a scegliere sempre quello che sono le opportunità non dimentichiamo che noi siamo una metallurgia quindi abbiamo un ciclo completo e possiamo anche ricevere orificerie dismesse oriche ormai sono in fondo dei cassetti che non mette più nessuno che hanno soddisfatto quello che devono soddisfare oggi forse la vita moderna attuale le nuove generazioni il catenone che hanno ricevuto non lo portano più ecco noi siamo in grado anche di riacquistare il vostro oro giustamente fondendo affinandolo e giustamente prima analizzandolo pagandovi al 100% l'oro puro contenuto secondo la quotazione di quel momento ma con una nostra applicazione che si chiama Orobit lo facciamo anche da dove voi vi trovate quindi mandiamo a ritirare il vostro oro che avrete messo in un'opportuna confezione manderemo il nostro corriere ovviamente a ritirarlo presso di voi ovviamente un servizio portavalori completamente assicurato a nostre spese e quando arriverà presso di noi vi chiameremo avendo scaricato la nostra applicazione Orobit con una videochiamata con il nostro operatore identificheremo ovviamente che è il nostro interlocutore con una polizza accertata e ovviamente riconosciuta dagli enti e dalle autorità Banca d'Italia in primis ma anche gli organi preposti perché c'è un ente terzo certificatore che conserverà questa documentazione quindi in completa sicurezza a casa propria nel proprio ufficio nella propria azienda sono in grado di potermi liberare del mio oro che non intendo più utilizzare anche di orificeria ma da sé che i lingotti voglio dire li compriamo a maggior ragione nel senso non c'è bisogno neanche di fonderli o di affinarli e sono già lingotti che hanno un loro titolo vi ho accennato velocemente la video call per consulenti ma non solo consulenti se siete dei privati che non volete rinunciare a una chiacchierata diretta è vero che una videochiamata non è come avere le persone vicino però possono già aiutare danno un'area di comfort si vede in faccia chi si racconta insomma noi abbiamo cercato di dare anche questo servizio quindi ai consulenti può volere essere un messaggio interessante perché con una seduta con il loro cliente non devono diventare tuttologi ma hanno l'esperto di fronte che risponderà a tutte le domande dei loro clienti ma anche i privati singoli che vogliono c'è ancora forse in attiva la Gold Week che tramite il nostro sito rovilla.com potete prenotare una call di mezz'oretta o sì credo che prevediamo 30 minuti ok 30 minuti per parlarci delle vostre cose raccontarci noi daremo nel nostro limite possibile le informazioni i giusti suggerimenti i servizi e i servizi che facciamo allora il riacquisto garantito ve l'ho detto siete in un'area di comfort acquistando con a rovilla perché bisogna anche giustamente andare un attimino a capire e a valutare il vostro partner il vostro l'azienda il cliente a cui vi rivolgete ma anche alle sensibilità che questa azienda perché sono sensibilità che sono molto riconosciute diciamo così che vanno anche nell'attenzione che vanno anche in tutto quello che può essere poi l'oro verde la tracciabilità le nostre polis che abbiamo quindi voglio dire andate sul nostro sito un sito molto ben fornito rovilla.com vi spiega un po' tutte queste cose sono andato veramente disparata vorrei dirvi sempre tanto perché alla fine mi piace anche diciamo così trasmettere questo messaggio parlo un po' troppo lo so però devo dire dopo la sostanza e la sostanza è quella che abbiamo capito e vissuto ovviamente anche da Maurizio dirvi attenzione noi ci siamo rovilla c'è basta alzare un telefono chiamarci direttamente abbiamo una presenza con i nostri consulenti io sono uno di quelli potete prenotare una video call insomma credo che per raggiungerci ci trovate quasi sicuramente comunque grazie per avermi ancora ascoltato spero che non siano andati tutti via e se no dicemelo grazie a te Oscar ma io coglierei coglierei questo momento per proprio vabbè tanto dovremmo passare alle domande per cui ti passo soltanto due domande in realtà una che arriva durante la talk che è dollaro bitcoin oro il primo una nota di debito il secondo una realtà virtuale troppo giovane per giudicare e l'oro è un asset lei cosa vorrebbe lasciare ai suoi nipoti ovviamente fra cent'anni questa credo che insomma tu puoi rispondere in merito visto che l'hai appena accennato quindi rafforziamo questa cosa era rivolta sicuramente a Maurizio da Alberto però penso che allora sì scusa ho perso una parte di domanda perché probabilmente la concorrenza ha cercato di oscurarci dollaro bitcoin oro il primo è una nota di debito il secondo è una realtà virtuale troppo giovane per giudicare e l'oro è un asset lei cosa vorrebbe lasciare ai suoi nipoti ovviamente fra cent'anni certo io solo dichiaro in pieno conflitto di interessi ovviamente però con tanto buonsenso con tanto buonsenso riferito al bitcoin e mi fa piacere abbiamo fortemente voluto anche l'inserimento e ci siamo avalti dell'esperienza ovviamente infinita devo dire di Maurizio anche su questo argomento anche su questo argomento non dobbiamo fare l'errore e buttare l'acqua sporca col bambino io ho un esempio che vamo a fare spesso la tecnologia che ha mostrato il bitcoin è una tecnologia la blockchain che sicuramente tanto sta dando e sta offrendo in un futuro probabilmente diventerà anche un qualcosa a cui non potremmo farne a meno non lo so però il bitcoin sinceramente vedo tanto marketing quando vogliono emularlo all'oro dove non so uno dice i miner sono i computer tutti in fila vogliono a raccontare a quelli che tutte le mattine vanno a 15 metri sotto terra a scavare l'oro piuttosto che nei depositi alluvionali con tanto di camion camioncini tutto quello che è sì voglio dire ci sono delle similitudini probabilmente un po' forzate l'energia ovviamente di una mano di una mano d'opera l'energia di persone una cosa concreta una miniera che esiste tutta una serie di situazioni che voglio dire fanno dell'oro un qualcosa di concreto che da 4.000 anni forse anche 5.000 è una storia infinita il bitcoin è una storia più giovane è nato così una tecnologia come dicevo prima per l'amor del T80 di testa però non c'è dietro né un mercato regolamentato per cui dice vabbè se domani da 20 va a 14 non c'è io ho trovato degli appunti se può interessare a qualcuno si riferiva alle bolle alle bolle e lo dico per vostra curiosità il bitcoin nel 2017 in 12 mesi ha perso l'84% quindi non sto parlando del 1900 chi sa quando quindi nel 17 in 12 mesi ha perso l'84% chi devo salutare chi devo ringraziare poi già qui vado in tensione se mi accorgo dico ho il collegamento per un talk perfetto oddio wifi sta andando immaginiamoci mi alzo una mattina non trovo i codici non trovo la chiavetta che ne so me le hanno presi me le hanno clonati all'inizio sembrava molto alimentato anche da questa non tracciabilità qualcuno continua a dire no sono tracciatissimi si sa tutto però non lo so però alla fine come diciamo noi il diavolo con l'acqua santa ok però come diciamo noi Oscar comunque alla fine tutto un po' va tutto bene cioè diversificare ma non dimenticare di avere comunque l'oro fisico giusto? e ti aggiungerei anche la domanda vanno bene mettetene un po' in oro esatto ti aggiungerei anche la domanda che invece in fase di iscrizione ci ha chiesto Giulio e cioè come distinguere i vari lingotti per scegliere quello più adatto a noi e quali sono le aziende produttrici di lingotti e come riconoscerle le più affidabili quindi anche questa va diretta a te perché un po' hai già risposto nella tua esposizione sì sì un po' ho già risposto allora quali sono i lingotti più adatti allora attenzione se un cliente si riferisce alle pezzature ovviamente uno dice ne metto tanti da 50 tanti da 100 grammi o tanti da 1000 diciamo che nel nostro lavoro spesso ci viene posta questa domanda e noi normalmente facciamo delle valutazioni cercando di interagire col cliente e capire questa sua finalità di protezione cosa ha in mente perché abbiamo anche il cliente e guardate che non sono pochi che mi dicono ma Olivari se qui le cose vanno male io mi prendo il mio grammo d'oro tutte le mattine sicuramente il caffè lo bevo che mi dice molto come diceva anche diciamo così Maurizio in un corso di un'altra call quando dice se hai un pettettino d'oro in tasca anche in mezzo alla foresta sicuramente qualcosa da scambiare lo trovi quindi questo tipo di cliente probabilmente lui sta meglio avere tanti 10 grammi perché dice oggi va bene sono più o meno 500 euro io se vado a sovere le mie necessità ne prendo uno me ne vado a sovere le mie necessità quindi adesso ho fatto l'esempio esasperato diciamo che l'equilibrio può andare a rispondere a queste domande hanno un costo di manifattura per cui sappiamo che realizzare un chilo d'oro costa 70 euro realizzare 250 mi incide 70 euro di manifattura realizzare un lingotto a 250 grammi mi costa 35 euro e di mezzo poi ci stanno tutte le altre pesi quindi il buon senso è se sono un pretto investitore pretamente un investitore ovviamente mi avvarrò dal fatto che 70 euro mi è più conveniente e il poco spazio comunque perché sappiate che un chilo d'oro lo dico sempre anzi dovrò pagare gli diritti forse all'Apple un chilo d'oro è poco più piccolo di un iPhone e quindi voglio dire poco spazio tanto valore poco spazio tanto valore quali sono le aziende produttrici di lingotti qui non vorrei fare un torto a nessuno perché quello che io vi dico bisogna essere degli operatori professionali in oro con tanto di licenza rilasciata dalla Banca d'Italia che ovviamente va a assolvere che ci siano tutti i requisiti la tipologia di società SRL SPA capitale sociale minimo secondo me è un po' basso che richiede la normativa se non ricordo male siamo attorno ai 100 e roti 1000 euro quindi secondo me è un po' basso dico quindi questo capitale minimo un collegio sindacale dei controlli che ovviamente vadano a tutelare un attimino il comparto per non far torto a nessuno dico a questi clienti guardate che andando sul sito la Banca d'Italia operatori professionali in oro vi danno un bel link su quel link scaricato un pdf se mi fa comodo con tutte le aziende operanti in Italia è l'anno di fondazione attenzione non l'anno di fondazione c'è l'anno in cui hanno conseguito questa possibilità noi siamo stati tra i primi non gli unici perché vedrete anno 2000 che non vuol dire che siamo nati nel 2000 siamo nati nel 1950 ma vuol dire che appena la legge l'ha consentito di poter andare a interagire con il pubblico con il retail con i privati infatti la legge porta legge 7 2000 noi eravamo già pronti e quindi effettivamente siamo stati i primi ovviamente a iscriverci quindi lui può andare voi potete andare attenzione le affidabilità non penso che basti un diploma fisso dietro a una diciamo così a una parete per fare di voi un bravo chirurgo o un bravo medico benissimo non entro in tanti meriti in tanti particolari certo l'oro lucica attira tante lucciole ed è sempre denaro immediato da spendere lo insegnano anche i signori che vengono a visitarci le case dove non siete ben protetti che loro non lo lasciano mai indietro la rilasciano il quadro e non hanno capito di che cosa si tratta non ci meno male che non mi hanno preso il dechirico benissimo però voglio dire avete degli elementi dico di sì l'ho detto prima un'azienda che nasce negli anni 50 è sicuramente ma non voglio dire più solida perché non sarebbe neanche corretto forse fare questo paragone però ne ha viste di traversie ne ha attraversate di economie mi ha incontrati di clienti ha uno storico che se dovessi mettere una mia azienda domani mi mancherebbe insomma mi dispiacerebbe quindi se avessi le possibilità cercherei di beccarne una che ha uno storico come le operazioni che fanno tante volte le case del lusso vado a comprarmi l'ermesse di colpo anche se sono un investitore dell'ultima generazione prendo un'azienda che nel 1800 faceva le valigie per i viaggiatori cioè voglio dire quindi dovete vedere un po' questi parametri l'ho accennato prima è estremamente importante vedete i parametri guardate anche la capitalizzazione attenzione noi sentiamo aziende che raccontano delle cose della serie vendiamo a questo prezzo quando ricompriamo al prezzo di spot cioè non guadagni niente quando ricompri è un modo per dire tanto non lo stai facendo adesso poi vedremo cosa succede io disdico sempre di chi dichiara di non guadagnare oppure di regalare solo tutto perché effettivamente per dare un servizio è costoso muovere oro è veramente costoso e per poter comprare garantire il riacquisto giornalmente devi essere fortemente capitalizzato quindi voglio dire quando vedo aziende che hanno il minimo sindacale se vanno in quattro clienti a vendere un chilo hanno già finito oppure devono andare in intermediazione col mercato allora è un'altra storia soprattutto quando il bene rifugio lo richiede se fai tante intermediazioni sei l'ultima ruota del caro non riuscirei mai a contentare il tuo cliente mi taccio bene allora io continuerei sull'onda delle domande in fase di iscrizione poi passiamo a quelle invece della talk nate durante la talk a questo punto a te Maurizio Francesco chiede il bitcoin è un mercato liquido ha uno spessore importante o basta poco per farne oscillare il valore di mercato allora di fatto il bitcoin oscilla notevolmente perché ancora perdonatemi dico un aggettivo che forse non è condiviso da chi è un fan del bitcoin non è ancora completamente maturo ci sono una serie di come dire di attriti all'interno di questo mercato che non lo fanno girare come dovrebbe girare un normale mercato diciamo come potrebbe essere il mercato dell'oro il mercato delle valute il dollaro e così via gli attriti sono ad esempio il fatto che le transazioni comunque costano perché c'è un costo di fatto e più la pezzatura è piccola della vostra compra vendita più percentualmente vi costa questa transazione non è vero che è gratuita e c'è un fatto che è quotato cioè che è scambiato su diversi exchange che sono completamente diversi e quindi questo parcellizza i volumi e questo quindi fa fare anche delle veloci escursioni e oscillazioni poi è pur vero che bitcoin comunque c'è anche la parte del mercato regolamentato dove ci sono ci sono dei future ci sono degli etf e così via allora io quello che credo è di fatto è un mercato liquido perché diciamo gli scambi che ci sono sono notevoli però tutto sommato non ha ancora raggiunto per la strutturazione di come è il mercato guardate che anche il dollaro è quotato non solo sui mercati regolamentati con i fiuci poi ci sono gli etf ma anche sui mercati o di sì over the counter eppure il dollaro non ha questi problemi di liquidità ma perché c'è uno spessore molto più alto allora su questo diciamo è ancora se la vogliamo chiamare una moneta è ancora una moneta un po' incompleta queste grosse oscillazioni faceva riferimento all'oscillazione Oscar quella riduzione del 84% io sfido a pensare a quelli che erano ancora dentro diciamo da là in alto in giù quindi voglio dire queste cose qui ci sono e possono ancora capitare però è continuamente mese dopo mese anno dopo anno si vede uno sviluppo maggiore del bitcoin non solo si vede il fatto che il bitcoin pur con tutti i suoi limiti che sono proprio quelli anche del limite diciamo nell'unità temporale di quante transazioni possono essere fatte e possono essere archiviate pur con questi limiti ne fa ancora la criptovaluta regina e su cui diciamo le altre possono solo andare al diciamo al traino insomma ecco ok poi abbiamo un'altra domanda di Alberto che chiede come mai l'inflazione una volta partita è difficile da gestire eh molto interessante infatti ringrazio intanto che ha preso una mia parola che più volte ho anche ho anche detto nei talk allora intanto c'è un discorso noi ci troviamo in questo momento con delle armi monetarie che sono abbastanza scariche tassi ridotti allo zero e così via questo significa da un lato che diciamo le banche centrali hanno dei problemi a dare ulteriori stimoli gli unici stimoli che possono fare sono esattamente quelli degli acquisti di titoli di Stato però dall'altra parte hanno modo di contrastare l'inflazione innalzando i tassi di interesse però qual è il problema se oggi partisse l'inflazione con un'economia che non è ancora pieno regime il governatore della banca centrale si trova di fronte a un dilemma il dilemma è quello di dire lascio correre l'inflazione anche perché questa mi diluisce debito e quindi la lascio correre oppure invece cerco di tenere anche se parzialmente a freno l'inflazione cominciando a rialzare i tassi di interesse ma rialzare i tassi di interesse significa creare degli scompensi sull'economia fare in modo che le aziende per prendere i prestiti debbano mettere maggiori risorse quindi rischierebbe a sua volta di far morire in culla la ripresa economica quindi che cosa tenderanno a fare le banche centrali ma l'hanno già detto Powell a settembre ha già fatto questo tipo proposta lasceranno correre inizialmente l'inflazione l'inflazione la si misura o con le aspettative e noi già vediamo la differenza oggi abbiamo nei Stati Uniti quasi due punti di differenza tra le aspettative e quello che è la reale inflazione allora i casi sono ancora il governatore il governatore guarda le aspettative e di fatto si trova già a target perché è vicino al 2% oppure guarda con lo specchietto retrovisore quello che ha misurato e quindi si trova ancora un ampio margine di far correre l'inflazione e quindi capite bene che non può guardare alle aspettative ancora per le ragioni che vi ho detto prima perché diciamo creerebbe un danno all'economia lui guarda lo specchietto retrovisore e continuerà a guardarlo con lo specchietto retrovisore quando per arrivare al nocciolo della domanda quando l'inflazione sale a dei livelli che possono essere quelli mi viene così a pensare 6 8 10 per cento l'inflazione comincia a diventare come se fosse un virus cioè è quel fatto di un contagio che va a permeare sulla totalità e sulla globalità dell'economia cosa intendo dire l'inflazione attacca il bene il bene fisico l'alimentare ad esempio ma attacca anche l'energetico l'energetico è quello che sarebbe portare in giro la merce e quindi l'energetico a questo punto va a finire anche lui ad aumentare ma questo aumento va a retroazionarsi quindi a incrementare ancora il bene il bene fisico che viene trasportato dal diciamo dall'energia quindi i trasporti del carburante e quindi anche lì si ha un circolo vizioso un circolo vizioso che va a finire sugli stipendi un circolo vizioso che va a finire sui listini delle aziende che tra l'altro poiché devono magari fare dei listini che vanno per sei mesi l'unica cosa che hanno è quella di cercare di abbondare nella loro stima di inflazione insomma morale comincia a innescarsi una spirale che si autoavvera che a questo punto l'arma monetaria unica per contrastare da parte delle banche centrali che è quella di innalzare il tasso di sconto non funziona più e quindi si entra in un circolo vizioso da di lì tra l'altro è un circolo che si propaga perché se comincia dal dollaro piano piano arriverà anche parte dagli Stati Uniti ma poi va a finire che arriva anche in Europa insomma quindi questa è la ragione bene e Gino che chiede qualcosa in merito all'argento ma penso che hai ampiamente risposto con l'analisi che hai già fatto e andare short sui BTP italiani è una bella domanda noi non ne abbiamo mai parlato questa era un tema quello di andare short sui BTP italiani era un tema che ha affascinato per un lungo periodo di gente un lungo periodo di tempo diversa gente diversi investitori che si sono fatti malissimo allora intanto vi ho fatto vedere qual è la tendenza dei rendimenti del Portogallo l'avete visto avete visto anche la Spagna è vicino diciamo appena entrata nella fascia negativa non è escluso noi abbiamo ancora uno spread che è ancora un pochettino alto avremo ancora un pochettino di margine di diminuire non per meriti nostri ma per diciamo reazione degli ingenti acquisti da parte della Banca Centrale che comprime di fatto i rendimenti quindi di fatto già detto così la cosa non potrebbe funzionare ma ve ne dico un'altra se voi l'avete visto suggerito da qualche cosa ecco fate una riflessione sul fatto se quella persona lì che suggerisce questa cosa qui abbia mai fatto lo short sui BTP perché non è che si short allora shortare significa vendere lo scoperto quindi significa vendere per shortare il BTP io non posso vendere il titolo di stato che non ho ma devo andare sul mercato dei derivati e quindi devo agire con il future quando io agisco con il future allora il future è quotato in Germania c'è il future BTP quindi io devo prendere quello lì e fare lo short il discorso uno dice perfetto uso quello strumento lì ecco quando si usa un derivato e quando si usa un future bisogna prima ancora di fare l'operazione o guardate che se fate con l'ETF è la stessa cosa perché l'ETF replica il future quindi anche chi lo fa con l'ETF devi andare a vedere il future devi guardare le caratteristiche dello strumento e lo strumento dice che quel BTP lì è un è queste sono la dicitura è un paniere virtuale di BTP quindi è una cosa virtuale un paniere potrebbe anche non esistere che riconosce al possessore il tasso di rendimento del 6% annuo questo è quello del BTP quindi il discorso cos'è? che se io vado long quindi se io acquisto io ho un rendimento su quella cosa lì che è del 6% l'anno cioè vado con uno strumento che potrebbe dare e infatti i livelli sono sopra 100 in maniera notevole che potrebbe dare un rendimento del 6% se io vado short il rendimento del 6% io lo devo pagare questa è la ragione che se voi andate a vedere quando viene fatto il rollover trimestralmente del BTP cioè il BTP che diciamo quello più vicino che scade finisce la sua vita quindi bisogna spostarsi sull'altro BTP voi vedete che ci sono dei gap notevoli cioè dei salti verso l'alto quindi io vado bene per un certo periodo di tempo e poi dopodiché devo pagare quello che è quel famoso tasso di interesse che trimestralmente potrebbe essere 6 diviso 4 adesso la faccio così non è proprio corretta ma sarebbe l'1,5% allora io se vado short di BTP devo mettere in conto che io intanto così a parità a bocce ferme io dovrò pagare un 1,5% poi se il BTP si muoverà nella direzione che io auspico almeno dell'1% io vado a pari quindi questa è la risposta sul discorso degli short c'è tanta gente che scrive delle cose su internet però non li ha mai utilizzati questi strumenti ma non sa neanche come sono e poi consigliano e poi dopodiché c'è il discorso che il povero investitore legge una cosa pensa di affidarsi e poi si fa del gran male quindi scusa Graziella se l'ho fatto troppo lunga no no hai fatto benissimo almeno hai chiarito per benino direi Allora una domanda da Massimo che è come è possibile prevedere una crescita del PIL prossimo anno per la Germania del 2,8% e invece Italia 4,3% Qualche commento sulla gestione dell'ingente debito nazionale italiano? Allora ringrazio Massimo perché è un attento è stato molto attento alla 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 presentazione e ripresento la schermata a cui fa riferimento Massimo voi vedete che in effetti Italia 4,3% Germania più 2,8% quindi Massimo ha ragione questa cosa Massimo è una questione esclusivamente matematica se noi cadiamo del 9,1% e poi facciamo un più 4,3% di fatto siamo sotto del 5% se la Germania cade del 5% e fa più 2 e 8% che è quasi 3 lei si trova adesso diciamo intorno a 2 possiamo dire intorno a 2 all'incirca e vado vado proprio così allora qui sembra che la Germania fa peggio di noi in realtà ha fatto meglio di noi perché è il punto da cui si si parte cioè la Germania si avvicina di più comunque a quello che era pre-pandemia noi invece rimaniamo 5 punti sotto è esclusivamente una cosa matematica quindi questo è l'aspetto per cui delle volte le statistiche ci pongono così un pochettino in inganno l'altro aspetto sulla gestione del debito pubblico allora il fatto che ci sia la parola gestione pone la mia la mia risposta che non so a che cosa devo rispondere nel senso che se la domanda è togliamo gestione che cosa ne penso del debito pubblico italiano ne penso malissimo noi stiamo ipotecando le future generazioni e noi oltretutto non saremo mai in grado di pagare questo debito quindi prima o poi qualche cosa avverrà ma soprattutto è bruttissimo il fatto che noi ipotechiamo le future generazioni se invece parliamo di gestione del debito pubblico e quindi dell'opera cioè del modo di lavorare del tesoro io devo dire che al tesoro faccio dei complimenti noi siamo debitori nei confronti del tesoro per la capacità che hanno di gestire una mole così grossa di debito con delle efficienze incredibili mantenendo comunque è vero grazie anche alla BCE ma dei tassi molto bassi ma anche la capacità che hanno avuto nel corso degli anni di spalmare il debito l'hanno allungato l'hanno spalmato su vari anni io che controllo ogni mese io vedo ogni mese dei miglioramenti allora cercare di gestire il debito pubblico con le nostre dimensioni è come cercare di fare manovra con una nave nel golfo di Portofino so che non è possibile ma volevo farvi capire qual è il paragone insomma ok poi Francesco penso che qua abbiamo risposto perché chiede appunto se nel portafoglio ideale consiglieresti la diversificazione oltre che con conto in oro anche con il bitcoin l'abbiamo già l'abbiamo già l'oro è l'oro punto e il bitcoin io vi devo dire ho anch'io qualche posizione in bitcoin ma cioè non è comparabile cioè il rapporto di quello che ho in oro rispetto a quello che ho in bitcoin siamo sugli 0 virgola certo io verrò criticato da chi è fan del bitcoin però diciamo che io forse sono un po' un po' all style e mi sento bene così e Francesco che chiede nel medio-lungo periodo al di sotto di quale valore l'oro perde l'aspettativa di apprezzarsi allora anche qui stiamo parlando allora quindi andiamo a rivedere il grafico dell'oro di lungo termine naturalmente aspettativa perde l'aspettativa di apprezzarsi non significa che non si apprezzerà mai più ma significa che entra in una spirale negativa come quella che abbiamo conosciuto intorno al 2011 2011 allora un attimo solo ecco quello che mi verrebbe a me da pensare voi vedete che c'è una trend line qui di lungo termine ecco che un livello a cui è importante che ci sia un rimbalzo è questo di 1650 che è molto al di sotto perché perché se no ci troveremmo a ragionare poi intorno a 1500 dove c'è un'altra trend line diciamo che l'aspettativa fino a qua rientra nelle cose normali certo può far male ma diciamo il quadro resta comunque sano bene e Paola che per prima cosa ringrazia per la presentazione per il commento sull'importanza dell'oro in portafoglio di investimento e con l'attuale livello dei tassi di interesse si sovrappesa all'investimento azionario Tina e le quotazioni e le quotazioni sono spesso lontane dal valore effettivo delle aziende qual è il segnale anticipatore principale per intravedere una flessione del mercato prima della stagione degli utili ringrazio Paola che saluto purtroppo non c'è un indicatore anticipatore non c'è ci sono allora al momento allora io se vi devo dire vedo in questo momento dei segnali molto simili a quello che era accaduto nel 2001 nel senso che vedo anche le ultime IPO mi riferisco a Airbnb il fatto che è andata in borsa ed è scattata e è raddoppiato il suo valore nel primo giorno in quotazione cioè il fatto che oggi sembrano tutti rivolti dal lato positivo e nessuno valuta il lato negativo questo lo si vede nelle fasi finali di un rialzo consistente c'è l'altro aspetto che è quello delle quotazioni quindi quello che vorrei dire è questo un segnale non c'è non c'è non esiste però già oggi ci sono già tutte quelle quei segnali quei piccoli segnali di allarme facevo riferimento prima a Paola al fatto che provare a sentire con i vari gestori so che questo è un argomento che Paola può praticare con i vari gestori quali implicano dei ribassi anche consistenti degli indici azionari con i ribassi consistenti indico il 20% se un anno fa c'erano dei gestori che dicevano ma tutto sommato queste quotazioni non possono resistere probabilmente scenderà e così via oggi molto meno gestori quasi nessuno implica questo significa che tutti i gestori per paura di rimanerne fuori sono investiti allora se tutti sono investiti non c'è più nessun altro che può investire e quindi significa chi è che fa salire le quotazioni a un certo punto le quotazioni a finire che si accartocciano per spontaneità loro nel senso che c'è qualcuno che vuol vendere e a quel punto lì e succede il patatrack quindi bisogna cercare di prevenire è meglio cercare di lasciare l'ultimo 10% agli altri e non essere abidi e quindi cercare di smontare le posizioni io negli ultimi tempi ho fatto un po' di liquidità ho anche acquistato piccole ciliegie di alcune cose quindi non a indici ma diciamo ho anche è più la parte che ho smobilitato che quella che ho acquistato ok e poi volevo rispondere a Dario che in fase di iscrizione ci ha chiesto un po' di raccontare sull'imposizione fiscale dei metalli preziosi e nel frattempo rispondendo a Giulio che ci fa tante domande su come sono le insidie nascoste nelle spedizioni trucchi per evitare che il nostro investimento si blocchi alla frontiera come possiamo comprare oro nel rispetto delle regole ma essere invisibili al fisco direi che allora noi siamo nel mondo della totale legalità ma anche perché la normativa che è una normativa tra l'altro europea permette l'acquisto appunto di oro a chiunque lo voglia fare dal come diceva Oscar con la legge 72000 abbiamo con questa anche il DPR 633 che permette l'esenzione di IVA per qualunque italiano che voglia comprare oro da investimento sotto forma di lingotti monete o anche conto in oro ovviamente dal punto di vista della fiscalità non c'è obbligo di dichiarazione di possesso quindi nella mia dichiarazione dei redditi non devo andare ad indicare che ho acquistato oro l'unico assoggettamento è la plusvalenza nel caso di rivendita quindi di guadagno al momento della rivendita esattamente come un titolo normale quindi un 26% sul guadagno che è esattamente il capital gain posso anche godere delle compensazioni delle eventuali minusvalenze sempre derivanti da operazioni in oro fino ai 4 anni successivi l'altra dichiarazione che va fatta è alla Banca d'Italia per operazioni superiori a 12.500 euro poi invito Dario come suggeriva Oscar per maggiori informazioni non so se abbiamo risposto ai suoi dubbi alle sue domande e eventualmente appunto volentieri una call mirata per rispondere un po' più nel dettaglio alle sue domande quindi quando vuole può fissare un appuntamento con noi basta direi che non ci sono altre domande almeno non vedo altre domande io volevo ricordare a tutti che intanto non vi lasceremo da soli neanche per le vacanze di Natale perché ovviamente al 18 di dicembre uscirà il nostro Oro News per cui un po' di buona lettura per le vacanze direi che male non fa e vi ricordiamo che troverete la registrazione della Tolca sul nostro sito orovilla.com a partire da lunedì e troverete anche i precedenti le precedenti registrazioni ai nostri webinar alle nostre talk di Orovilla quindi che dire vi auguriamo un Natale sicuramente sarà un Natale diverso ma ci auguriamo che sia per tutti noi e tutti voi sereno e ricco di veri valori mi viene da dire e soprattutto che appunto il 2021 inizi molto bene e che sia come sia ma che ci veda forti e uniti per superare ogni ostacolo ecco quindi questo l'augurio di tutto il team Orovilla penso ringrazio tutti voi grazie Maurizio grazie Oscar grazie Ugo grazie team e grazie a tutti voi e ci vediamo al 15 di gennaio sempre alle 5 e mezza arrivederci ciao a tutti grazie